Prego i consiglieri di accomodarsi ai loro posti, in modo tale da poter iniziare i lavori. Ringrazio naturalmente la presenza del dottor Dalia che sostituisce il segretario generale e gli do la parola per l'appello. Buongiorno, Andretta, Aralda, Arnoldi, Ballare, Bosio, Brivitello, Canelli, Coggiola, Diana, Dintino, Franzinelli, Gatti, Giuliano, Iodice, Lanzo, Lia, Monteggia, Moscatelli, Murante, Negri, Pagani, Pedrazzoli, Perugini, Pisano, Bronzello, Reali, Rossetti, Santoro, Soncin, Spano, Stoppani, Zacchiero, Zampogna. Allora, 18 presenti, se mi dà un secondo, dunque numero legale è assicurato. Volevo soltanto giustificare l'assenza dei consiglieri Monteggia, del consigliere Pisano, del consigliere Spano, del consigliere Santoro e del consigliere Pagani, che per motivi di lavoro non sono presenti. Fare una comunicazione, come avrete avuto modo di verificare e vedere, è arrivata ieri una comunicazione da parte mia a tutti i consiglieri comunali in merito all'ordine del giorno, che a seguito, diciamo così, del lutto che ha colpito il nostro collega Assessore all'Urbanistica Marco Bossola, ha avuto la necessità di essere rimodulato, pertanto nella giornata di oggi, l'ordine del giorno è relativo alle interrogazioni, alle emozioni, anzi all'approvazione dei verbali delle sedute consigliari alle emozioni, sì, vabbè, comunque, sì, l'approvazione dei verbali la facciamo e a seguito di accordo unanime della conferenza di capigruppo che si è tenuto ieri e naturalmente va il mio ringraziamento per la collaborazione a tutti i capigruppo, le delibere che avrebbero dovuto essere discusse oggi saranno spostate al Consiglio Comunale che è fissato per il giorno 15 di dicembre. Detto questo, allora io inizierei subito in attesa. Capito. Va bene, consigliere Perugini, ci mancherebbe. Sì, no, non è verbale, passiamo subito alle interrogazioni, avrei bisogno del testo delle interrogazioni, scusatemi, grazie. Allora, l'interrogazione numero 300 che è presentata al gruppo PDL, il testo della interrogazione dice, visto il perdurare delle aggressioni che avvengono giorno dopo giorno ai danni di anziani ragazzi in ore pomeridiane dopo l'uscita dalle scuole, vista l'aggressione subito da un ragazzino di 14 anni in zona scuole Viale Ferrucci in data 24 settembre alle ore 15 e constatato che si sono stati tanti casi simili in varie zone della città, interroga il Sindaco per sapere che azioni si stanno intraprendendo a tutela dei suoi cittadini più deboli, se sono stati informati i vigili urbani per un controllo più capillare del territorio nelle ore di maggiore frequenza di ragazzi in strada, se il comitato sicurezza e ordine pubblico di cui fa parte ha affrontato questo problema sociale che molto spesso sfocia in vere e proprie forme di bullismo. Ultimo punto, se sono stati attivati dei progetti sul bullismo con il sostegno del comune all'interno delle scuole di Novara. L'interrogazione è firmata dal gruppo del PDL, chiedo naturalmente se si vuole dare un'illustrazione all'interrogazione, prego consigliere Uriano. Grazie Presidente, l'interrogazione parla da sé, è soltanto una cosa che è stata presentata il 14 ottobre e siamo a dicembre, però vale lo stesso per carità, però io esorterei almeno le interrogazioni, quelle che vengono, dove capita una cosa, nel lasso di tempo dove venga presentata la interrogazione che vengano discusse nel più breve tempo possibile. Chiedo questo, grazie Presidente, aspetto la risposta. prego, prego signor Silvio. Intanto buongiorno a tutti. In merito all'interrogazione numero 300 del gruppo consigliare del PDL, informo che durante gli orari di entrata e di uscita delle scuole vengono impiegati mediamente 13 agenti ed altrettanti nonni vigili, prioritariamente nei plessi comprendenti elementari e medie inferiori. L'episodio alla base della interrogazione è ufficialmente sconosciuto al comando scrivente, che è al comando di Polizia Municipale, tu e il comandante. Così risulta. Il fenomeno del bullismo è stato più volte negli anni recenti oggetto di valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e per quanto riguarda la Polizia Locale verrà garantita anche quest'anno la presenza nelle aule scolastiche delle scuole medie ed elementari di agenti che terranno lezioni sulla legalità anche per contrastare il deprecabile fenomeno del bullismo. Questa è la redazione del comandante Cortese che all'epoca era il comandante della Polizia Municipale. e forse c'erano altre interrogazioni sul tema della sicurezza. Questa, la 301 sulla sicurezza, sulla zona stazione. Posso rispondere anche a questa? Sì. E allora, no, soltanto perché io poi devo scappare, non so se... Se consentiti possiamo farla 301 dopo perché c'è un impegno del sindaco perché oggi ci sono le celebrazioni della festa di vigile del fuoco. Ma perché il tema è abbastanza... Prima questa qui, eventualmente, velocemente. Guardi... Prego, sì per la... Guardi, io non so più cosa dire. Sinceramente, allora, è stato scritto su tutti i giornali che questo bambino è stato... Vi porterò la madre qua, la madre ha scritto su Facebook anche sulla pagina del sindaco. Sono persone, non stiamo parlando, per carità, qui non è l'unico caso che è successo nella zona scuole dove c'è il Mossotti, l'OMAR e le altre scuole. Ci sono vari casi che stanno denunciando agli organi competenti, quindi qua non stiamo inventando nulla e la risposta a me mi sembra molto, molto, molto... Non so neanche di far raffazionata, non lo so, proprio... Non lo so, ci stiamo arrampicando sugli specchi. Io, molto superficiale, una risposta che non ha né coda e né testa, sinceramente. Certamente non è colpa del sindaco, ma colpa che gli ha dato la risposta, per carità, voglio mettere anche questo a sua discolpa, ma che i vigili urbani non sappiano che il 24 settembre un ragazzino, lo sanno, in tutte le scuole di Novara è stato avvicinato, gli è stato buttato nella siepe che costeggia via San Bernardino e da Siena, gli è stato tolto lo zaino con tutti i libri, a me sembra, è uscito su tutti i giornali di Novara, a me sembra che stiamo dicendo proprio delle corbellerie e qui lo confermo. Il comitato di sicurezza, che cosa fa sapere su questa cosa di Novara, sulla sicurezza? Lei, signor sindaco, fa parte di questo comitato, Novara è arrivata al 66esimo posto e come sicurezza siamo gli ultimi in Piemonte. Cosa ci dice il conforto per i bambini nelle scuole? Poi lei mi dice, 13 agenti dislocati sulle scuole di Novara, ma sapete quante sono le scuole a Novara? Solo di scuole elementari, materne e medie sono 59, un quarto di agente per ogni, allora vorrei capire quali scuole vengono monitorate, quali sono? Allora la cosa non va, non gira, non stiamo qui a prenderci in giro, fate qualcosa, voi siete l'amministrazione di questa città, al di là del passato e del futuro che può essere. Voi in questo momento siamo in difficoltà, i genitori sono in difficoltà con i bambini delle scuole, voi avete l'obbligo, l'obbligo, ripeto tre volte, l'obbligo di fare qualcosa a tutela dei bambini nelle scuole. Poi vorrei capire, è stato fatto questo progetto, non mi è stato risposto, un progetto sul bullismo nelle scuole? Quando ero assessorio ce ne facevano mille e avevate sempre da dire, quindi voglio un po' capire cosa si sta facendo. Grazie. Grazie a lei, immagino che non sia soddisfatto. No, 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 soddisfazione zero, meno zero, numeri delativi. Allora consentitemi di fare questa proposta in modo da consentire un lavoro ordinato per tutti, siccome giustamente è stato fatto osservare che l'interrogazione 301 e la 304 a 20 stesso oggetto andranno discursi congiuntamente, lascerei, se voi siete d'accordo, che la discussione su queste due interrogazioni avvenga quando il Sindaco rientra dall'impegno istituzionale che ha. l'ho detto prima, si tratta della celebrazione della festa di Santa Barbara dei Vigili del Poco a cui il Sindaco è invitato come autorità cittadina immediatamente quando rientra, qualunque sia il punto dell'ordine del giorno che stiamo trattando, comunque inizieremo da queste due interrogazioni, in modo tale che il Sindaco possa rappresentare il Consiglio della città alla celebrazione dei Vigili del Fuoco. passerei al numero 305, interrogazione, presentata anche questa dal Popolo della Libertà, interrogazione che leggo, considerato che proprio nei giorni in cui i cittadini per l'antica tradizione rendono omaggio ai loro defunti, il recinto 2 e il recinto 5 del cimitero risultano inagibili, nessuna informazione è data in loco in merito alle ragioni della chiusura al pubblico di detti recinti né in relazione a quanto saranno riaperti, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il Sindaco o l'assessore delegato per conoscere la motivazione della chiusura dei recinti sopra menzionati, quando si prevede che i lavori necessari al loro ripristino saranno avviati, quali costi sono previsti e dove si intendono reperire le risorse necessarie, quando tali lavori potranno essere terminati e quando i recinti potranno essere riaperti al pubblico. I sottoscritti consiglieri comunali ritengono e chiedono che i cittadini siano doverosamente informati con chiari desaurienti avvisi nei luoghi considerati. Si richiede risposta scritta orale e a firma della consigliera Moscatelli e di tutti i componenti del gruppo del Popolo della Libertà. La consigliera vuole eventualmente illustrare o do la parola al vice sindaco per la risposta. C'è stata una seduta delle commissioni consigliari nei giorni scorsi, quindi nel corso di quell'incontro ho fornito copia ad ogni commissario di una dettagliata relazione inerente non solo il cimitero urbano, ma anche gli altri cimiteri presenti nel territorio comunale. Sintetizzo per brevità la dettagliata relazione di cui comunque consegno copia agli atti, in modo tale che anche gli altri consiglieri non facenti parte della commissione, qualora ne avessero interesse, potranno consultarla. Le motivazioni della chiusura dei recinti, cioè del secondo e del quinto sono prestodetti. Riguardo il secondo cimitero, a giugno del 2014 nel corso delle verifiche periodiche effettuate dal personale cimiteriale, presso i 1680 locui del recinto numero 2, realizzati tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, si è constatato un evidente e repentino pericolo di distacco dell'intonaco del soffitto dei corridoi adibiti al passaggio dell'utenza, ed in alcune zone anche lo sfondellamento degli elementi in laterizio, ciò a causa delle precarie condizioni del manto di copertura in guaina catramata. L'amministrazione ha attivato una procedura di affidamento dei lavori in economia, come da normativa vigente per una spesa di 37.820 Euro, IVA compresa, relativa alla sola messa in sicurezza, cioè alla rimozione delle parti di intorno a quell'aterizio in fase di stacco, che ha obbligatoriamente comportato il confinamento di tutta l'area. Il finanziamento per i lavori necessari alla riapertura dell'area, quindi al rifacimento del manto della copertura piana, degli intonaci, dei ripristini dei cementi armati e dei laterizi, è stato quantificato in circa 270 mila Euro al netto di IVA e degli oneri accessori. Per poter dare accesso in sicurezza alla zona in via provvisoria, in attesa dei lavori di ristrutturazione, è stata quantificata una spesa di circa 9 mila Euro per poter posizionare al soffitto delle reti contenitive. Per quanto invece riguarda il quinto recinto, quello più recente, negli ultimi giorni del mese di ottobre, durante lo svolgimento di un funerale, si è verificato il distacco di alcune fasce orizzontali in marmo dell'ultima fila dei loculi dell'arco 87 al piano primo, causando la caduta di una lastra di chiusura dell'oculo corrispondente ad un'altezza di circa 5 metri, senza danni per i dolenti che stavano assistendo alla tumulazione. Oltre al ripristino tempestivo di quanto danneggiato, si è provveduto a verifiche specifiche a campione di tutta l'area denominata recinto 5, che hanno rivelato una situazione diffusa di pericolo dovuta all'assenza, per una certa percentuale, degli elementi verificati di un idoneo sistema di ancoraggio meccanico, risultando presente solo il fissaggio concollante. La tipologia di anomalia riscontrata non risultava accertabile in seguito alle consuete ricognizioni ispettive regolarmente svolte dal personale cimiteriale, in quanto la ricognizione comporta la rimozione della lastra in marmo di chiusura di ogni singolo loculo e il controllo del corretto ancoraggio delle fasce orizzontali. In conseguenza dell'accertamento da parte del servizio di una diffusa situazione di pericolo, particolarmente subdolo, in quanto tale tipologia di distacco non comporta manifestazioni preventive e quindi impedisce di monitorare e prevenire il distacco stesso, il sindaco ha emesso una ordinanza di chiusura straordinaria in tutta il recinto 5 in prossimità della ricorrenza di ogni istante. Il servizio, data la natura dell'intervento necessario per la sistemazione della problematica riscontrata, che prevede il fissaggio meccanico di ogni fascia a ritenuta delle lastre a chiusura dei loculi, per un totale di circa 11 mila fori, per accelerare la risoluzione ha proposto di non affidare il lavoro ad un'impresa esterna, ma di svolgere l'attività all'interno con l'ausilio di due operai già in servizio presso unità cimiteri, sostituiti temporaneamente da due affossatori a tempo determinato, appositamente assunti l'acquisto di attrezzature e materiali in economia. Come ho già specificato durante la Commissione, la settimana scorsa si è proceduto alle visite mediche dei due operai segnalatici dall'Agenzia Provinciale del Lavoro e quindi questi a breve prenderanno servizio. La durata dei lavori è prevista in circa 8 mesi, questo era uno dei quesiti che venivano posti dagli interroganti, quindi a breve avvieremo i lavori la cui durata è prevista di circa 8 mesi. I costi sono quelli preventivati, abbiamo stanziato per ora 40 mila Euro per la fornitura dei materiali e i costi degli stipendi necessari ai due operai che andranno a sostituire i due operai affossatori con la qualifica di muratori che eseguiranno gli interventi. Mano a mano riguardo l'ultima domanda, quando saranno riaperti al pubblico i loculi, mano a mano che saranno tassellati i loculi medesimi si procederà alla riapertura, quindi non procederemo alla riapertura totale di tutto il quinto recinto, ma ad ogni arcata che sarà messa in sicurezza si procederà poi alla riapertura. Comunque sia la coppia della risposta alla interrogazione costituita da 9 pagine la deposito agli atti e poi la coppia chiaramente agli interroganti. Grazie. Assessore, consigliera Moscatelli per la soddisfazione o meno. Grazie, grazie Assessore, avevo già ascoltato la sua risposta nell'apposita e specifica commissione che è stata fatta sull'argomento. Io non posso ritenermi soddisfatta, ma le spiego il perché. Non perché la sua relazione non sia completa e sufficientemente approfondita. Non sono soddisfatta perché oltre un mese dall'ordinanza del sindaco che ha chiuso l'accesso al quinto recinto e oltre quasi sei mesi dalla chiusura del secondo recinto i lavori non sono partiti. Questa è la sostanza. Questo che cosa determina e che cosa ha determinato? Un grave, grave disagio che si è soprattutto concretizzato in occasione della commemorazione dei defunti. Per cui è stato proibito l'accesso ai parenti e di poter onorare i propri cari. Capisco che in termini di sicurezza fosse necessario, però altrettanto dobbiamo sottolineare il grave disagio patito e sopportato dai novaresi. Questo disagio si sta prolungando perché sostanzialmente ad oggi, che è il 4 di dicembre, ancora nulla è partito, anche se sulla sua dichiarazione chiaramente lavoriamo in economia con due addetti, due affossatori che hanno anche la qualifica di muratore, quindi lavoriamo in casa sostanzialmente per 11 mila loculi. Ma quando mai, quanti loculi io mi sono chiesta, due affossatori riusciranno a fare in una giornata, comprese le festività e quant'altro. Sono molto dubbiosa della soluzione che avete trovato. Credo che un affidamento esterno condizionato ovviamente alla realizzazione dell'opera in termini ben precisi e contingentati sarebbe stata una soluzione migliore per i novaresi, sicuramente più onerosa per le casse del comune, ma più rispettosa anche delle esigenze emozionali dei propri cittadini. Ma non solo, voi da giugno avete chiuso il secondo recinto e ad oggi sul secondo recinto, quindi sono passati quasi sei mesi, non avete fatto assolutamente nulla tranne la messa in sicurezza, questo era il minimo ovviamente, e invece di avviare immediatamente una procedura per la realizzazione delle opere necessarie per la sua apertura. Sono altri 1600 rotti loculi il cui accesso è vietato ai parenti e a coloro che si vogliono evidentemente avvicinare i propri cari anche attraverso la presenza nel cimitero. Questo è quello che ci preoccupa, sono sei mesi e non siete assolutamente intervenuti ancora sul secondo recinto, 1600 loculi. Gli altri 11.000 con due operai io sono fortemente preoccupata. I novaresi evidentemente non possono essere soddisfatti perché quando si vieta addirittura di poter commemorare i propri defunti è una grave inefficienza di questa amministrazione che non sta sostanzialmente, perché qui è il punto, lavorando e accelerando perché si ritorni alla normalità. Siamo ancora a dover assumere i due affossatori, lo vedremo, poi due operai per 11.000 loculi, sono veramente fortemente preoccupata. Qualcuno magari, qualche novaresi sarà fortunato perché da dove inizia i lavori ha il proprio defunto, altri, quelli che saranno gli ultimi, vedremo che livello di soddisfazione nei confronti di questa amministrazione possono esprimere. Ma vede, non è il grado di soddisfazione, è il grado di grande insoddisfazione del cittadino novaresi che non è neanche, al quale viene proibito addirittura di poter nel proprio intimo commemorare e onorare i propri defunti. Grazie. Grazie a lei consigliera Moscatelli. Allora adesso facciamo la discussione congiunta di due interrogazioni, la 302 e la 309 presentate, la prima dal gruppo PDL e la seconda dal gruppo del Movimento 5 Stelle e hanno entrambi come oggetto la situazione del cavalcavia 25 aprile. Io leggerò naturalmente le due interrogazioni. Allora la prima è quella del gruppo PDL, visto che l'interruzione e il restringimento della carregiata sul cavalcavia 25 aprile è ridossa di incrocio con viale cortatone dura ormai da svariati mesi, visto l'ingorgo di auto che si forma tutte le ore del giorno dovuto al restringimento, visto il traffico che si forma per le auto provenienti dalla zona est di Novara per recarsi in città anche sul cavalcavia Porta Milano, ricadendo sul corso Milano fino alla piazza della Chiesa dovuto all'interruzione predetta come percorso alternativo, interroga il sindaco e l'assessore competente direi, quando inizieranno i lavori per il ripristino della carregiata, se non è il caso di disciplinare il traffico con l'ausilio di vigili urbani, quali sono state le cause che hanno portato a non iniziare i lavori fino ad ora? La seconda interrogazione fino al Movimento 5 Stelle ha per oggetto stato avanzamento lavori relativi al cavalcavia 25 aprile, è sottoscritto Luca Zacchero, capogruppo del Movimento 5 Stelle, premesso che durante l'autunno 2013 si sono registrati cedimenti dei muri di sostegno del cavalcavia 25 aprile in Novara, questi cedimenti hanno portato in data il 19 dicembre 2013 al restringimento della carregiata da 3 a 2 corsie, ad oggi, a quasi un anno dal provvedimento di restringimento della carregiata, la situazione del cavalcavia è rimasta immutata, quotidianamente si registrano code lunghe centinaia di metri e che nelle ore di punti infrasettimanali le code di auto in entrata verso la città sono superiori al chilometro, i mezzi di soccorso spesso si trovano nel bel mezzo di veri e propri ingorghi ritardando così notevolmente i loro spostamenti. In data 15 gennaio 2014 era già stata presentata una prima interrogazione riguardante il cavalcavia 25 aprile, la cui aveva fatto seguito una risposta scritta da parte del vice sindaco Fonzo, nella quale venivano indicati costi e tempi legati alla progettazione e alla consegna dei lavori. Per questi motivi interroga il sindaco per sapere qual è lo stato di avanzamento della progettazione preliminare considerando che doveva essere presentata entro febbraio 2014, quali sono i tempi che riguardano la progettazione definitiva esecutiva dal momento che doveva essere redatta entro un mese d'approvazione del preliminare, quando avverrà l'affidamento lavori tenuto conto che sono trascorsi già 10 mesi dalla data del restringimento della caraggiata e che i cittadini novaresi hanno già dovuto subire quotidianamente numerosi disagi, entro quale data il cavalcavia in cui in questione potrà essere finalmente utilizzato senza restringimenti e o lavori in corso, tornando così alla viabilità originale. Nella speranza che non si debbano attendere gli stessi tempi di realizzazione che hanno interessato il cavalcavia Porta Milano richiedo cortesemente risposta orale e scritta, non avevo avvertito l'ironia nella richiesta finale. Pertanto se mi consentite io darei la parola all'assessore in modo tale da consentire poi ad entrambi di avere il tempo necessario per la soddisfazione o meno rispetto alla risposta per cui do la parola all'assessore Forzo. Ricapito un attimo la vicenda. Verso la metà del dicembre dello scorso anno si è individuata una criticità nel cavalcavia del viale 25 aprile. Con verbali di somma urgenza si è provveduto ad effettuare gli interventi necessari per allontanare il traffico dalla parte dove si è constatato il movimento dei muri. L'intervento supportato dallo studio di fattibilità è stato inserito nell'elenco annuale 2014 del programma triannale dei lavori pubblici, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 32 del 29 aprile 2014. Il successivo sviluppo della progettazione preliminare e definitiva è stato approvato con delibera di giunta comunale numero 308 del 19 novembre 2014 ed effettuata da un gruppo di tecnici comunali è stata condizionata in parte da motivi finanziari, in parti da motivi tecnici, in parti da motivi di lavoro. Finanziari in quanto la spesa è stata approvata col bilancio del Comune di Novara del 29 aprile 2014. Tecnici in quanto trattasi di una progettazione particolare, non usuale per il personale comunale, che ha reso necessario approfondire per la prima volta alcuni aspetti tecnici e sovrapponendosi con altri interventi urgenti in progettazione o in corso. Di lavoro in quanto, nonostante le azioni adottate già nel primo momento, la situazione si è evoluta in varie fasi, che hanno reso necessario prima ampliare le previsioni di intervento sui muri, poi di intervenire anche con il rinforzo del terreno sottostante alle fondazioni e successivamente di verificare con prove i materiali utilizzati nella costruzione dei muri che sembravano non appropriati. Occorre ora procedere alla gara per l'appalto integrato, perché al soggetto verrà chiesto di presentare la progettazione esecutiva, in quanto quella preliminare e quella definitiva è stata già approvata con delibera della giunta comunale. Dicevo, per l'appalto integrato dove oltre ai lavori è prevista la progettazione esecutiva a cura dell'impresa giudicataria tramite professionista esterno o personale della stessa ditta e la successiva approvazione del progetto da parte del Comune. Allo stato attuale la situazione è la seguente. È stata sottoscritta determina a contrarre numero 102 il 26 novembre 2014, con la quale è stata approvata anche la bozza di lettera di invito per la procedura negoziata tramite sorteggio di 25 ditte specializzate della categoria prevalente dall'elenco delle ditte esistenti. Entro la fine di dicembre si presume di avere la ditta giudicataria e quindi di procedere con la giudicazione definitiva. Entro la fine di gennaio, inizio di febbraio l'efficacia della giudicazione, entro febbraio la presentazione del progetto esecutivo e la sua approvazione, inizio marzo consegna dei lavori, durata prevista dei lavori 45 giorni, con fine quindi entro la fine di aprile. Grazie Assessore. Allora iniziamo con la soddisfazione o meno da parte del gruppo PDL, quindi a lei consigliere Raimondo Giuliano. Soddisfazione zero, perché... E' una buona base di partenza. I numeri relativi... Tu sei arrivato adesso, ma tu se assistivi all'interrogazione di prima, eravamo sotto ai numeri relativi. Allora, soddisfazione zero, perché non può essere che per un pezzo di cavalcavia che io faccio ogni giorno anche, quindi lo conosco benissimo, ci si metta un anno e mezzo. Un anno e mezzo non può essere, qui siamo proprio alla follia pura, lentissimo, non lo so. Quindi se non presentavo questa interrogazione, chissà dove arrivava, cioè alle calende greche, io non lo so. Io avevo visto anche l'interrogazione del Movimento 5 Stelle, quella di gennaio, quindi credevo che dopo quello stimolo si arrivasse a qualcosa, ma non si è arrivato a nulla. Allora, tutti i soloni che ci sono in questo Consiglio e che ovviamente sono molto più esperti di me, di lavori pubblici, di progettazioni, di sporting, di tutto, parlano di tutto, perché per carità io ascolto sempre gli altri e cerco sempre di capire e di imparare qualcosa. Ma su questo caso, su questa cosa qua, ma qualcuno ha detto qualcosa, oltre al signor Zacchero che io ho letto lì la sua interrogazione di gennaio. Cioè noi siamo proprio fuori da ogni grazia di Dio in questo Consiglio. Io per carità sono stato fuori venti mesi, quindi credevo che, ma siamo ancora all'anno zero, per carità. Per cui io spero proprio, io spero proprio che, non sono soddisfatto, ma spero che per marzo, aprile, come ha detto, non lo so, aprile finiscano i lavori. Qui si parla di una delibera del novembre 2014 per fare questi lavori. Novembre, un anno dopo, cioè qui le delibera, l'ha detto, delibera 308 del 19-11-2014. Il fattaccio lì, che non so che cosa tecnicamente, non lo so, è successo proprio la fine di novembre e il dicembre del 2013. Un anno solo per fare la delibera. Per carità, professionalità zero. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giuliano, consigliere Zacchero, a lei per la soddisfazione o meno. rimaniamo nei numeri interi positivi, per cui da zero insomma. Va bene, proviamo. No, non c'è soddisfazione ovviamente, nel senso che, sì, come al solito, le risposte arrivano, per carità, per cui se la soddisfazione deve essere espressa basandosi sul fatto che ti venga data una risposta, va bene, ma sulla qualità della risposta, scusatemi, cioè, stiamo parlando, io ho qua la risposta alla scorsa interrogazione firmata il vice sindaco dottor Nicola Afonso, che è la stessa persona che ci ha risposto oggi. In questa risposta qua c'era scritto, la progettazione preliminare dell'intervento verrà completata entro febbraio, no, del 2014. Entro febbraio, progettazione preliminare. La progettazione definitiva esecutiva è prevista entro un mese dall'approvazione del preliminare, marzo quindi. Il tempo stimabile, salvo imprevisti o altre priorità per la consegna dei lavori, entro 13 settimane dall'approvazione dell'esecutivo e finanziamento dei lavori. Quindi ci facciamo due conti, aprile, maggio, giugno. A giugno doveva essere sistemata sta cosa qua. Oltretutto oggi ci viene detto che ci sono state delle evoluzioni nel movimento, diciamo, della struttura, se non ho capito male. Sono sorti nuovi dubbi, uno dei quali niente po' di meno che sulla qualità dei materiali utilizzati per la costruzione in origine. Questo ho capito. E con un dubbio di questo genere qua noi teniamo il cavalcavia aperto? Cioè o il dubbio è infondato o non stiamo secondo me prendendo il provvedimento corretto per tenere in sicurezza quel tratto di strada. Perché se abbiamo dei dubbi che quel cavalcavia non sia costruito con i… ma veramente, non lo sto dicendo per fare allarmismi o cosa, ma benedetto Signore, se abbiamo dei dubbi sulla qualità del materiale con cui è stato costruito quel cavalcavia, non sarebbe la prima volta che una struttura viene giù perché è stata costruita con materiali non adeguati. E lì sopra tutti i giorni, tutti i giorni, anche a causa della coda, non solo transitano delle auto, ma migliaia, adesso non ho i dati, ma immagino migliaia di auto, forse anche qualcosa di più, ma ci stazionano perché c'è la coda. Quindi appesantendo ulteriormente la struttura. E se noi abbiamo il dubbio che non sia costruita con materiali adeguati, ci facciamo stare sopra ferme migliaia di tonnellate di auto? Cioè, facciamoci due conti su sta cosa qua. Poi però cosa facciamo? Diciamo che di lì gli autobus non ci possono passare. Passare, però ci facciamo stare fermi decine e decine e decine di macchine. Secondo me, guardi, un consiglio spassionato, un consiglio spassionato, non venitemi a raccontare poi dopo, per favore, che chi l'avrebbe mai detto. Ok? Perché poi di solito succede questo, ma come si faceva a prevederlo? Ci avete avvisato oggi che probabilmente c'è un problema sui materiali con cui è stato costruito? Io vi sto dicendo, guardate che lì sopra ci stazionano auto e mezzi tutti i giorni, per ore, a causa della coda che il restringimento ha causato, fate attenzione perché secondo me c'è un pericolo. Grazie. Grazie consigliere Zacchiero. Allora passiamo all'interrogazione numero 307, a firma del gruppo Lega Nord, oggetto situazione via delle Acace e altre strade private. I sottoscritti consiglieri comunali che per premesso che da almeno due anni in via delle Acace, quartiere San Martino, è posizionato nel mezzo della carreggiata un cavalletto e un cartello che indicano un tombino in condizioni disastrose, con conseguenti difficoltà di transito. La via risulta inoltre in condizioni critiche per altre buche e tombini malmessi che possono causare danni ai mezzi alle persone. Pur essendo strada privata, la via è a passaggio pubblico. Interroga nel sindaco l'assessore competente per conoscere quanto segue l'intervento per il posizionamento dei materiali via delle Acace è stato effettuato dal Comune e intenzione all'amministrazione di sistemare il fondo stradale di detta via. Se la risposta è negativa di chi è la competenza per la manutenzione della strada, nel caso di strade private a passaggio pubblico non ritiene l'amministrazione di intervenire comunque nei casi più gravi per evitare danni a cose e persone, quale programma l'amministrazione comunale per la trasformazione delle strade private, delle strade consultive, delle strade pubbliche, nel caso questa sia la richiesta dei residenti. Della presente si richiede anche risposta scritta nei termini di regolamento. L'interrogazione è a firma del consigliere Franzinelli. Chiedo se posso dare la parola all'assessore per la risposta. Assessore Fonzo, lei. In riscontro all'interrogazione di cui alloggetto, comunico che la via delle Acace è inserita nel registro delle strade private. L'intervento di segnaletica è stato eseguito dal Comando di Polizia Municipale per segnalare i rischi esistenti sulla viabilità ed evitare il transito ad utenti occasionali. Sulle strade private non è possibile un intervento del Comune. La manutenzione della strada privata compete agli utilizzatori della stessa, nel caso specifico esistendo una viabilità comunale di contorno ed essendo la strada stessa di lunghezza limitata, gli interventi di manutenzione straordinaria ricadono sui proprietari cosiddetti frontisti. L'amministrazione comunale ha fornito una direttiva sulle strade private su cui è risultato che è risultato da un'indagine dell'unità manutenzione strade, un evidente utilizzo pubblico e sono stati approvati dal Consiglio Comunale due regolamenti che disciplinano il passaggio di strade private a comunali o ad uso pubblico, cosiddette strade consortili. Direi che la risposta dell'assessore è il tipico esempio di chi vuole sfuggire dai problemi e dalla loro risoluzione. È evidente, ma questo è un esempio di tanti altri casi in città, che le vie private, che sono tante nel Comune di Novara e di cui non si vuole mai affrontare probabilmente fino a fondo la loro gestione, è evidente che questo, essendo una via che collega via Pasquali con via Le Volta, è una via frequentata, ma frequentata come tantissime altre strade private, il fatto che il Comando di Polizia Municipale, quindi Comune direttamente, si preoccupi di segnalare problemi che possono essere problemi sicuramente gravi, però io sarei contento se a queste mie osservazioni ci fosse anche l'attenzione dell'assessore. Quindi riprendo da zero l'assessore, visto che non ha sentito niente di quanto detto. Io mi preoccupo tanto, lei che non si preoccupa di queste situazioni. Sì no, ma lei si preoccupa invece dei problemi della città e anche di queste vie pubbliche, che sono sostanzialmente, ma lo sappiamo tutti, anche ridotte in queste situazioni per il passaggio di mezzi che sono anche comunali o che sono comunque di servizio pubblico. Sappiamo che i mezzi dell'assa passano tutti i giorni, sono mezzi pesanti, sappiamo che in alcuni casi passano mezzi di trasporto pubblico, sappiamo tutte queste cose e lei risponde in modo pilatesco, dicendo sono private e si arrangeranno i frontisti. Salvo il fatto che però poi quando ci sono le buche i vigili intervengono, mettono il cavalletto, lo lasciano lì per anni e anni e tanto chi si è visto si è visto. Ecco io credo davvero che, assessore, io capisco che vi sono mancanze di risorse, mancanze di risorse che impediscono a lei di intervenire già su strade pubbliche, immaginiamo su quelle a passaggio pubblico ma private. Queste mancanze di risorse probabilmente sono utilizzate da altre parti, noi l'abbiamo già detto più di una volta, certo che se le poche risorse vengono usate male, allora poi Novara si ritrova con le buche nelle strade. Oggi, stamattina per venire qua, tornando da casa di mia madre, sono passato da via Villa Glory, che non so se è pubblico o privata, sicuramente è una via di grande percorrenza trasversale a corso di sorgimento. Vi era un motorino di una persona anziana con la ruota rovinata per una buca in fondo a via Villa Glory, una buca che mi sono fermato a vedere enorme, in questo caso non c'è nemmeno il cavalletto. Questa è la situazione della città. Se il sindaco pochi giorni fa ha dichiarato che incontrando i cittadini, quei pochi cittadini che probabilmente sta incontrando a spese di tutta la collettività, alle domande dei cittadini, ma mettete a posto le buche delle strade, la risposta del sindaco è stata non abbiamo soldi e quindi non possiamo intervenire? Allora Assessore, questa è una delle sue funzioni, lasci la delega, non ha le possibilità di intervenire su nulla, non ha la possibilità di intervenire sulle piccole buche che rovinano e che rischiano di causare danni al passaggio dei novaresi, se questo è il modo che lei ha intenzione di perseguire nel suo mandato come Assessore, lasci la delega che probabilmente a questo punto è una delega assolutamente inutile, che non ha la possibilità di essere portata avanti, perché questa è la realtà e questi sono esempi, questa via è un esempio, a Novara purtroppo sui problemi comuni di tanti cittadini, piccoli problemi che diventano grandi se poi causano dei danni, l'amministrazione comunale, l'amministrazione Ballaré e lei Assessore Fonzo non siete in grado di intervenire nemmeno nelle piccole cose. Ne tragga le conclusioni, ovviamente la nostra soddisfazione è assolutamente inesistente, è come il collega di prima uguale a zero se non negativa. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo alla numero 309 e a firma dei capigruppo di maggioranza di PD e SEL, oggetto, progetto di attribuzione petrolifera presso Carpignano-Sesia, i sottoscritti consiglieri comunali, appreso che in data 7 novembre scorso si è svolta a Novara un convegno dal quale sono emersi interessanti dati circa le risorse idriche che la nostra città, più precisamente si è appreso che il volume d'acqua immesso nella rete cittadina proviene anche da tre fonti di Carpignano-Sesia, acqua questa assolutamente non inquinata. Considerato che in prossimità delle suddette fonti si troverebbero i punti di esplorazione per nuovi polsi petroliferi secondo i progetti previsti, valutata l'importanza che tale questione riveste rispetto alla salvaguardia dell'acqua come bene e assoluto patrimonio strategico, interrogano il sindaco del Comune di Novara e l'assessore competente per sapere a che punto si trova l'iter del progetto Enid di rivelazione petrolifera in termini di conferenza di servizi e procedure ad oggi attivate presso l'area di Carpignano-Sesia. Quali azioni l'amministrazione comunale di Novara intende intraprendere in accordo anche con provincia e regione per la salvaguardia della salute della nostra cittadinanza con riferimento alle problematiche sopracitate viste, come spiegato nel convegno, le evidenti interferenze che il progetto avrebbe sull'acquedotto di Novara. È firmata dai consiglieri Reali e Brivitello. Chiedo se, prego, consigliere Reali, illustra l'interrogazione. Sì, grazie Presidente. Una brevissima premessa prima della risposta dell'assessore. Non è la prima volta che nell'aula consigliare viene trattato questo tema. Io voglio ricordare infatti che esattamente due anni e mezzo fa, il 7 giugno del 2012, venne approvata una mozione presentata dai nostri gruppi di maggioranza PD e SEL proprio su questo tema, insieme anche a un'altra mozione che venne discussa del gruppo Udc e un'interrogazione del consigliere Zacchero, sempre su questo tema. Quindi ne parlamo già due anni e mezzo fa. Ho voluto insieme al capogruppo PD Roberto Brivitello riportare questo tema in aula attraverso un'interrogazione a fronte anche, come viene spiegato nell'interrogazione stessa, di un importante convegno che c'è stato il 7 novembre all'auditorium della Banca Popolare, un convegno molto partecipato, nel quale sono stati molto ben spiegati tecnicamente i problemi annessi a questa questione, convegno a cui parteciparono anche diversi consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Abbiamo così ritenuto di riportare questo tema in aula per verificare lo stato della situazione a oggi, a due anni e mezzo di distanza da quando ne parlamo e per sentire l'impegno dell'amministrazione su un tema così delicato. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consigliere Reali, Assessore Rigotti per la risposta. 5, grazie. Dunque, relativamente alla domanda sullo stato di attuazione dell'ITRE del progetto ENI di trivellazioni in Carpignano e procedure di conferenze di servizi, abbiamo fatto verificare che al momento sul sito del Comune di Carpignano, alla voce permesso ricerchi d'Ocaburi Carisio, posto esplorativo Carpignano Sesi e 1, presentata da ENI, ci sono questi atti. C'è una lettera della Regione Piemonte che chiede un incontro che poi non è avvenuto, in data settembre 2014, una delibera del Consiglio Comunale di Carpignano che approva un ordine del giorno contrario a qualsiasi intervento esplorativo sul territorio del Comune di Ricerchi d'Ocaburi sul territorio del Comune di Carpignano. C'è il dossier ENI di presentazione delle caratteristiche tecniche esplicative, illustrative, tecniche esecutive di questo pozzo, di questa ricerca e poi c'è una lettera ENI di risposta alle polemiche o comunque alle questioni di conflitto che ci sono state nel mese di ottobre tra consiglieri comunali, cittadini e rappresentanti dell'ENI. Dalla lettura di questi documenti risulta che l'ENI ha presentato in questo incontro istituzionale voltosi il 3 di ottobre un documento che illustra di massima questa localizzazione, localizzazione che la stessa ENI aveva ritirato in data giugno 2013 per riformularla. Dalle informazioni che sono state raccolte dai nostri uffici, presso la provincia, presso il Comune di Carpignano ovviamente, dai siti internet, dalla Regione e del Ministero, al momento non risulta presentata nessuna, alla data odierna, nessuna richiesta di valutazione di impatto ambientale o di conferenza di servizi per la perforazione di un nuovo pozzo di ricerche idrocarburi nel Comune di Carpignano. Si ricorda che questa procedura è di competenza statale. Ora, tenuto però conto che dai documenti che abbiamo esaminato, in cui si conferma la localizzazione esplorativa, che è già stato oggetto, come ricordava il Consigliere Reale, di diversi esami nel 2012, 7 giugno 2012, una conferenza dei servizi convocata dalla provincia di Novara, che in quell'occasione, già in quell'occasione l'amministrazione comunale di Novara aveva inviato all'attenzione del Presidente della provincia una comunicazione ufficiale nella quale si esprimevano tutte le proprie riserve in merito all'opportunità di procedere, leggo testualmente, nel territorio novarese e non solo con ricerche e progetti di coltivazione in ambiti adiacenti ad aggomareti urbani, in aree di confini, con sistemi ambientali di tutela assoluta e di conservazione della biodiversità e soprattutto in adiacenza a pozzi e faldi acquifere di fondamentale importanza per l'approvvigionamento delle comunità locali e di quella novarese in particolare. L'amministrazione comunale aveva poi inoltrato una richiesta alla provincia che per le suddette ragioni, quelle che ho letto prima, fosse considerata l'opzione di non procedere alla coltivazione del polso petrolico. Quindi, considerato queste precedenti prese di posizione e documenti inviati, per le medesime ragioni che oggi ribadiamo, l'amministrazione conferma il giudizio che è stato espresso e si riserva di intervenire in tal senso a tutela e salvaguardia delle risorse idriche e ambientali, qualora fosse nuovamente ufficializzata una conferenza di valutazione ambientale presso la provincia o presso ambiti in cui sarà eventualmente convocato. Grazie Assessore, chiedo ai proponenti la soddisfazione o meno, Consigliere Reali. Sì, grazie anche della risposta Assessore, quindi dichiariamo la soddisfazione. nel ribadire l'importanza del tema, nel convegno veniva spiegato molto, molto in modo dettagliato come nei pozzi che le fonti, voglio dire, che approvvigionano la nostra città, quindi il nostro comune per l'acqua, tre di queste fonti vengono da Carpignano e sono tra l'altro tre fonti di acqua non inquinata, che non hanno necessità di altre lavorazioni come invece avviene per tutto il resto delle fonti. Quindi sono tre fonti preziose che ci forniscono acqua e ci fanno risparmiare soldi, nel senso che non devono essere applicate tutte le procedure che invece si fa per tutte le altre fonti di approvvigionamento che hanno dei livelli di inquinamento che vanno tolti ovviamente. Per cui nel ribadire l'importanza di questo tema, speriamo appunto che sempre venga tenuta alta l'attenzione come ci è stato spiegato adesso dall'assessore Rigotti. Grazie. Grazie consigliere Reali. Per cortesia passiamo all'interrogazione 310 che credo sarà l'ultima che discuteremo, in quanto ne abbiamo comunque altre due da discutere successivamente durante i lavori. È presentata dal Movimento 5 Stelle l'interrogazione relativa alla situazione delle mense scolastiche, sottoscritto Luca Zacchero, capogruppo del Movimento 5 Stelle, premesso che è ormai avviato il nuovo servizio di ristorazione scolastica affidato tramite appalto alla ditta uccente Alessio S.P.A. per il quinquennio 2014-2019, considerato che il Movimento 5 Stelle aveva a suo tempo presentato una mozione relativa all'introduzione dei prodotti biologici nelle mense scolastiche come previsto espressamente nell'articolo 59,4 della legge 488 del 99 che recita testualmente per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità alle istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici tipici e tradizionali anche di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione. Gli appalti pubblici di servizio relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicate ai sensi articolo 23,1 lettera B del decreto legislativo 17 marzo 1995 numero 157 attribuendo valore preeminente dell'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Il decreto legge numero 104 del 12 settembre 2013 convertito in legge dalla legge numero 128 dell'8 novembre 2013 che dall'articolo 5.4 recita nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di riflessione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di prima e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a 18 anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato dieta mediterranea, consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semi integrali, frutta secca e frutta fresca, verdure crude e cotte legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici. Per cortesia è già difficile riuscire a leggere perché è un carattere particolarmente piccolo, se poi mi ricordi che l'età diminuisce la vista, i suddetti bandi prevedono altresì, anche perché non ho mai avuto la possibilità di avere una mensa scolastica all'elementare, i suddetti bandi prevedono altresì un'adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia. Chiede quali sono i prodotti biologici ad oggi introdotti nei menu delle scuole, di quali di questi cibi si fa menzione espressamente nel contratto di appalto, qual è la proporzione tra cibi biologici e non biologici, quali sono i costi per il comune dei pasti somministrati, oneri per la sicurezza e IVA inclusi. Allora presente si richiede risposta scritta e orale, chiedo al consigliere proponente se vuole illustrare, se no do la parola all'assessore per la risposta. Bene, allora do la parola all'assessore Patti per la risposta all'interrogazione. Sì, grazie. Dunque, nel presente appalto, come da decisione della Commissione Mensa, che ha discusso e condiviso le linee generali del contenuto del bando la primavera scorsa, non è previsto l'utilizzo di prodotti biologici. Come raccomandato dalle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, provvedimento del 29 aprile 2010 del Ministero della Salute, sono previsti i prodotti a filiera corta, DOP, IGP, carne italiane, latte alta qualità, ortofrutticoli privi di trattamento e, laddove possibile, prodotti del mercato eco e solidale. Tutto ciò viene stabilito dall'allegato 5 al capitolato d'appalto, pubblicato e reperibile sul sito del Comune di Novara, a garanzia di elevata sicurezza alimentare e di qualità. L'offerta tecnica dell'azienda garantisce la fornitura del 100% di prodotti a filiera corta. Il menu, invece, è approvato dall'ASL e rispetta tutte le norme di legge e le esigenze di patologie specifiche degli alunni, degli utenti della mensa. Il valore dell'appalto consiste in complessivi 20 milioni 386 mila 424 euro per 5 anni, insomma 20 milioni e 4 circa, di cui 44 mila 658, quindi quasi 45 mila per oneri di sicurezza. Il totale dell'appalto è così composto, faccio la specifica perché chiaramente riguarda le scuole, ma non solo le scuole, quindi ho diviso se può, non so. Asilinido e infanzia con personale di cucina dell'azienda, 6 milioni 911 mila e 700, insomma quasi 7 milioni di euro. Asilinido, invece, con personale di cucina comunale, cioè con dipendenti comunali, quindi soltanto la fornitura delle derrate, 679 mila e 778. Le scuole primarie e secondarie 11 milioni 274 mila 880, centro di urno e disabili 637 mila 561 e anziani a domicilio 882 mila 505. Il costo complessivo per il comune è di 8 milioni 112 mila 199, la differenza fra il costo complessivo e il costo dell'ente è la stima presunta delle entrate complessive. Grazie, Assessore. Prego, Consigliere Zacchero. Ringrazio Presidente, sì, sono soddisfatto della risposta nel senso che, come al solito, risponde alle domande poste, ai quesiti posti. Vorrei tuttavia riservarmi naturalmente di esaminare la risposta e poi, se avessi ancora qualche dubbio in materia, ovviamente, ripresenterò al limite un'interrogazione per avere degli approfondimenti, sarà la quinta? La quinta, va bene. Eva, mi sta particolarmente a cuore perché si dice sei ciò che mangi, quindi, so peraltro che, ma, bene, vorrei, so peraltro che, diciamo che di tanto in tanto vengono fatte delle visite, diciamo, ispettive, tra virgolette, insomma, andate a pranzo nelle mese scolastiche delle scuole per, immagino, verificare la qualità del servizio, del cibo e quant'altro e, a tal proposito, io vorrei farmi estensore in questa sede di una richiesta che proviene da decine di genitori e bambini e la richiesta è la seguente. Delle due l'una, o la smettete di avvisarli quando andate a trovarli, perché ogni volta che andate a trovarli e avvisate, mettono su la tovaglia di fiandra e cambia il menu, sì. Secondo, secondo, quindi o la smettete di avvisarli o, se no, cosa probabilmente è ancora più facile da fare, andate a trovare più di frequente, in maniera tale che la qualità del cibo migliori e, mediamente, nell'arco dell'anno, diciamo, le giornate in cui si mangia bene siano più di quelle in cui si mangia male, perché ad oggi, nelle mese scolastiche, si mangia male. Voi lo sapete benissimo, perché ricevete, non dico quotidianamente, ma quasi, le lamentele dei docenti e dei genitori degli allievi e, di conseguenza, ve lo ripeto, o la smettete di avvisarli, così almeno vi rendete conto di come si mangia lì dentro normalmente, o li andate a trovare quasi tutti i giorni, così almeno si mangia bene. Prego. Dopo il Consiglio, però. Può essere un'idea. Tra l'altro credo... No, non sono leggende metropolitane, non sono leggende metropolitane, è la triste realtà, è la triste realtà. Non voglio dire che sia responsabilità sua la qualità del cibo che sta dentro le mese scolastiche, ma il controllo, e non sto neanche a dire che nel bando non ci sia scritto ciò che per legge è corretto che debba essere fornito, vi sto semplicemente dicendo che c'è discrepanza tra quanto scritto e la qualità del cibo che viene servita. E lo sapete, ripeto perfettamente anche voi, perché ricevete quotidianamente le lamentele di genitori e di docenti. Grazie. Grazie consigliere. Naturalmente ricordo che anche lei in qualità di consigliere comunale può avere una funzione ispettiva, ma no. No. E nessuno viene avvertito. È falso che si avvisi di prima. Falso. Falso. Ha una possibilità ispettiva, salvo, salvo... no. 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 Sì. Certo. È un afferm... Ma no. È falso che si avverta la ditta. È falso. Lei me lo chiede come è fatto personale, immagino, perché altrimenti non ho motivo per darle la parola. Ah, ecco. Va bene. Ah, ecco. E mi suggerisci anche il modo per farlo. Cosa tocca fare? No. Cosa tocca fare a me? Cosa le tocca... Cosa ci tocca fare? Non tocchiamoci. Guardate, le scuole vengono avvisate. Le scuole vengono... Io non so se le scuole vengano avvisate, ma io so che i docenti sanno quando voi arrivate. No. Ma io ve lo posso garantire. No. E no. Porca miseria. Guardate, ho un infiltrato parecchio vicino all'ambiente. Mettiamola così. Non mi è congnuno. Alto così. Non mi è congnuno. Alto così. E chi te l'ha detto dice che la cosa non vera. È falso. È falsa. Dubito fortemente che il giorno prima mi si dica domani vengono a fare i controlli e il giorno dopo arrivano a fare i controlli. Ma, ma, ma. Vabbè, vorrà dire che chi me l'ha detto avrà dono della veggenza, della preveggenza. Se le sogna, no? E poi combinazione il giorno dopo succedono. Sì. Sì. Guardate, vi do un suggerimento. Adesso non stiamo lì a tanto entrare vero contro falso. Smettetela di avvisare chiunque, anche solo informalmente, e magari riuscite a toccare più vicino, più da vicino, con mano, ciò che effettivamente succede. Va bene? È un suggerimento, eh? Per la carità di Dio. Poi fate come volete. Grazie. Chiedo solo però una cartesia. Poiché, come ho detto in presidenza, ciascun consigliere ha una funzione ispettiva e dunque può eventualmente assumersi l'onere di verificare quanto oggetto di questa interrogazione. Tenderei però a stigmatizzare l'uso dell'affermazione è falso perché fino a prova del contrario quanto viene dichiarato, come dire, è frutto immagino di un lavoro che è relativo non soltanto all'attività degli assessori ma anche degli uffici. Siccome il falso è indifendibile in qualunque circostanza, in qualunque luogo, non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista giuridico, assolutamente l'unico reato indifendibile, diciamo che siamo ideologicamente intenti a parlare di una situazione che il consigliere vuole venga maggiormente chiarita. Ma non dichiariamo che sia falso quanto viene detto in risposta da assessori e da dirigenti e funzionari che hanno sicuramente la responsabilità di mantenere sempre corretti. No. Ma io non mi sono riferito soltanto, ma guarda che io non mi sono riferito a lei, io mi sono riferito all'uso della parola falso. La funzione del Presidente comunque è quello di garanzia, anche verso il Movimento 5 Stelle che voglio dire, la prenda come una battuta ironica su via, poi la inviterò a mensa. Detto questo, sentite, io sono dell'idea che potremmo in realtà bypassare il punto 3, cioè l'approvazione dei verbali e andare direttamente alle emozioni se siete d'accordo. Non so, era per una questione di praticabilità dei tempi, comunque io sono disponibile a fare immediatamente il punto 3, cioè l'approvazione dei verbali e seduti consigliari del 23 luglio 2014 per chi è, naturalmente ricordo che chi era assente non deve votare i verbali e il 23 settembre e il 23 settembre erano assenti i consiglieri Coggiola e il consigliere Iodice che però non è presente e il consigliere Gagliardi che in quel momento sostituiva il consigliere Giuliano. Quindi chiedo chi è a favore dell'approvazione del verbale del 23 luglio del 2014 può alzare la mano? No, coggio la no. 23 luglio, sì. Ah, Murante, Pagani e Zacchero, va bene. Allora riproviamo. Chi è a favore può alzare le mani, tranne i consiglieri Coggiola, Iodice, Murante, Pagani e Zacchero. 15, grazie. Poi il verbale del 15 di settembre del 2014 a cui non risultano assente nessun consigliere comunale per cui chi è a favore può alzare la mano? Va bene. Chi si astiene? Uno. Due astenuti? Due astenuti? Contrari? Nessuno. Quindi sono due astenuti e 16 voti e Coggiola astenuti e 16 voti a favore. Passiamo al verbale del 29 settembre 2014. Ricordo che erano assenti i consiglieri Giuliano Monteggia e Stoppani. Chi è a favore? Com'è? È un dato incidentale e comunque dal punto di vista il verbale non metterei mai assieme i due nomi. Detto questo, chi è a favore può alzare la mano? Grazie. Chi si astiene? Due. Chi è contrario? Nessuno. Allora 17 favorevoli, due astenuti. Anche questo verbale è approvato. Intanto vi ringrazio. Allora passiamo alla parte relativa alle mozioni. La prima mozione iscritta all'ordine del giorno è la numero 282, mozione presentata dal gruppo consigliare PD, oggetto presa in carico e gestione comunale di via della Madonnina. Do lettura della mozione. I sottoscritti consiglieri comunali, premesso che nella città di Navarra esistono diverse tipologie di strade che molte di queste sono soggette ad un regime giuridico particolare a seconda della loro funzione urbanisticamente data, considerato che lo sviluppo del tessuto urbano ha portato a trasformazioni della stessa natura e funzioni giuridiche di molte di queste vie a seguito di interventi urbanistici di riassetto viario, di nuova urbanizzazione e di recupero e riqualificazione urbana che hanno determinato la trasformazione di molte strade. Verificato che sussistono ancora oggi un numero considerevole di strade considerate giuridicamente private ma aperte al traffico veicolare pubblico, il codice della strada catalogo e individua come criterio generale l'interesse pubblico per classificare le strade, che il Comune di Navarra ha un registro delle strade private e delle strade consortili. Ricordato che nei precedenti mandati erano state svolte diverse indagini al scopo di valutare quante e quali strade avessero la natura descritta dal codice della strada al fine di meglio gestire la viabilità e la programmazione di interventi che mutassero la natura giuridica di molte di queste al fine di dare eguaglianza nella offerta dei servizi. Negli anni precedenti diverse strade private sono passate in gestione al Comune, si veda via Pastorini, via Due Ponti, via Scarzello. I residenti di via Madonnina resero possibile la realizzazione della palestra e della scuola comunale Rigutini in quanto il progetto prevedeva l'allargamento e la relativa concessione al Comune di una parte dei terreni privati adiacenti alla scuola, che tutti i cittadini sono tenuti a pagare le tasse comunali, in particolare quelle riferibili alla raccolta e allo spazzamento delle strade, quindi anche coloro che non hanno a disposizione strade asfaltate, riaffermato che là dove la pubblica amministrazione si è intervenuta con la realizzazione di opere di urbanizzazione. Di urbanizzazione, luce, acqua, fognatura, chiusura di canali, ha sancito de facto la natura pubblica della strada, tenuto conto che la via Madonnina a partire di Santa Gabio collega due strade pubbliche interessate nella presenza di edifici pubblici scolastici, chiese, attività commerciali e impianti sportivi, che nel corso degli anni sono stati effettuati interventi da parte delle amministrazioni comunali, tanto che si è proceduto alla dismissione di un canale, all'allargamento della strada, al posizionamento delle luci e di altri sottoservizi, che una sentenza del Tribunale di Novara ha sancito la pubblicità della via in oggetto, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché vengano esperite tutte le possibili soluzioni affinché la via Madonnina venga considerata pubblica, come già nei fatti, in accordo con i residenti. Naturalmente la mozione è firmata dal proponente che è il Consigliere Dintino, a cui chiedo se vuole illustrare la mozione. Mi do la parola al Consigliere Dintino, il numero dovrebbe essere 50. non c'è il numero? Grazie Presidente, diciamo che la mozione è stata costruita già da tempo e per portarla in discussione oggi in Consiglio. Allora l'utilità su strada Madonnina, sulla pubblica utilità è fuori discussione. Io oggi mi sono portato anche delle foto che manifestano proprio anche il passaggio di scolare diversi alunni proprio nel collegamento della strada tra le due strade pubbliche, quindi via della Riotta e via quella dove c'è l'asilo infantile ricca. Quindi su questo penso che sia fuori discussione che questa via sia di pubblica utilità e quindi che sia frequentata abitualmente dalle persone. Questo è un problema del Comune di Novara, non solo del strada Madonnina, va detto questo, quindi strada Madonnina, io ho preso a cuore anche perché risiede a Santa Gabio, è un problema che almeno è da 30 anni noto a questa amministrazione e negli ultimi 15 anni i residenti hanno più volte manifestato l'esigenza proprio di fare, hanno fatto anche la richiesta proprio nel 2008, una loro richiesta formale al Comune proprio di passaggio da strada privata a strada comunale. Va anche detto che esiste, come peraltro è stato messo nel testo, esiste una classificazione delle strade con un elenco di strade private con i presupposti per riconoscere l'uso e o la classificazione di strade pubbliche, ma l'ultimo aggiornamento è stato fatto nel 2009, quindi direi che all'interno di questa classificazione bisognerebbe sicuramente rifare un nuovo aggiornamento per inserire altre vie, non solo anche via della Madonnina perché ci sono altre vie a Novara che hanno sicuramente, come ha detto prima il collega, anche Franzinelli, ci sono altre vie che proprio praticamente manifestatamente hanno questo interesse. Va peraltro detto però che esiste un regolamento comunale che regolamenti indicanti i criteri per passaggio da strade pubbliche a strade private, nell'articolo 4 dice che le strade comunali possono divenire strade e via comunale nel caso, nel secondo punto dice soddisfino il requisito del passaggio abituale da parte di una collettività di persone qualificate ad una comunità territoriale. Questi sono studenti, sono alunni delle scuole, quindi è in pieno il rispetto del secondo punto, dove nel terzo punto dice che rispondono anche alla concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze dell'interesse generale, poi riportato anche nell'articolo 5. Quindi penso che quanto scritto in mozione sia di quanto di più vera, poi c'è una sentenza anche del TAR che ci sono stati problemi tra vicinato insomma che il tribunale di Novara ha manifestatamente dichiarato che effettivamente è una strada con interesse pubblico, quindi pubblicistico di tipo uso comune. Quindi io chiedo che sicuramente che questa mia mozione venga accolta perché è un problema che ormai si potrà da anni e i residenti potete capire qual è il disagio, ad esempio qui c'è una strada allagata dove gli studenti praticamente zizzagano tra una pozzanghera e l'altra per passare per raggiungere le proprie abitazioni. Chi è di Santa Gabbio sa benissimo di cosa sto parlando e quindi è sicuramente un disagio. Tenete conto che questa strada ha anche già un'illuminazione pubblica, ci sono le foglie e tutto il resto, quindi illuminazione pubblica non è illuminazione privata, quindi è già servita comunque da alcuni servizi. Quindi chiedo che questa mozione venga accolta in quanto c'è una reale necessità e urgenza al fine di chiaramente passarla a utilizzo, a uso proprio comune, ma proprio deliberatamente anche come dire che sia censito proprio e presa in carico dal comune stesso. Grazie. Grazie, grazie consigliere Dentino. Alla parola il consigliere Perugini. Si sente? Sì, grazie Presidente. Chilo scuso un po' di tosse, quindi faccio fatica. Guardi, Presidente, io volevo limitarmi a un paio di considerazioni. La prima sulle motivazioni che sono appena state esposte dal collega Dintino e che sono deboli rispetto al fatto che ci sono decine e decine di strade nella stessa condizione a Novara e quindi il ragionamento ci porta immediatamente a chiederci perché oggi dovremmo sostenere e votare questa situazione se non piuttosto votare qualcosa di interesse generale e non così particolare. Questo proprio in estrema sintesi è perché ho mal di gura. La seconda considerazione, Presidente, è la seguente e se vuole apra le virgolette perché in una recente occasione non ci siamo capiti con i colleghi perché non era virgolettato quello che stavo dicendo. Le virgolette le apriamo e diciamo che sono stati approvati dal Consiglio Comunale due regolamenti che disciplinano il passaggio di strade private a strade comunali o ad uso pubblico, aperta parentesi, strade consortivi. Le virgolette le chiudiamo, attribuiamo a Nicola Afonso, Vice Sindaco e Assessore dei Lavori Pubblici questa affermazione che è stata fatta ed è documentata non più tardi di un quarto d'ora 20 minuti fa in quest'aula e questo atto, questa risposta alla precedente interrogazione sta dicendo al collega Dintino e alla maggioranza che certamente sosterrà, immagino, questa mozione, ritira la mozione caro collega perché sono stati approvati dal Consiglio Comunale due regolamenti che disciplinano il passaggio di strade private a comunali o ad uso pubblico. Se non credi a noi che comunque questa opinione la condividiamo, credi magari al tuo Assessore Afonso che l'ho anche scritto e controfirmato, motivo per cui è necessario qui oggi ritirare la mozione e poi occuparsene sicuramente in linea generale perché le motivazioni di cattivo funzionamento, problematiche, passaggio è chi non le condivide. Necessità e bisogno del cittadino, ma non esiste e non deve esistere mai il cittadino di serie A e il cittadino di serie B. Grazie Presidente. Grazie, Grazie Consigliere Perugini. Ora è scritto a parlare il Consigliere Canelli. Grazie Presidente. Il ragionamento del Consigliere Perugini non fa ovviamente una piega. Consigliere Dintino, noi capiamo benissimo la problematica che stai portando qui davanti a tutti noi in Consiglio Comunale. Mi permetto di dire che è una problematica conosciuta e già affrontata più volte nel passato, faccio riferimento già da 6 o 7 anni come minimo, quando ci occupavamo di quartieri, Silvana se lo ricorderà benissimo, ci sono tantissime situazioni di questo genere su tutta la città di Novara. Ti faccio qualche esempio, nel quartiere Ovest per esempio, io facevo il Presidente di quel quartiere, via Bari, via Cagliari, strade che collegano, tratti di strade pubbliche alle scuole, fratelli di Dio, di quella zona lì, anche loro sono strade private ad uso pubblico, anche loro avevano tutte le problematiche manutentive, si aprivano sempre buche, nessuno riusciva mai a intervenire e quant'altro, lottavamo tutte le volte per cercare di sistemarle queste strade in qualche modo, pur non essendoci la possibilità da parte del Comune di intervenire direttamente, proprio perché erano private e la manutenzione era a carico dei privati frontisti che ovviamente non avevano la possibilità di intervenire direttamente. Ora, capisci che portare questa istanza, il Consiglio Comunale su un'unica strada, che è la strada della Madonnina, va benissimo, noi siamo d'accordo che si sistemi questa situazione per strada della Madonnina, ma ovviamente non possiamo focalizzare l'attenzione su un'unica strada, giustamente tu stai portando questa cosa in Consiglio Comunale, però non possiamo focalizzare l'attenzione solo su quell'unica strada, tralasciando tutte le altre, perché saremmo iniqui in un approccio di questo genere. Quindi la proposta è o si ritira la mozione, oppure si fa un emendamento, si cambia il dispositivo e si cerca di dare un interesse generale, non soltanto particolare alla strada. Noi ci sono anni che cerchiamo di convincere l'amministrazione ad affrontare il problema, è già stato redatto un elenco di tutte le strade che prioritariamente dovrebbero passare da private comunali, si procede in questo modo, non si può andare avanti a colpe di emozioni per cercare di favorire una strada rispetto a un'altra, quindi un gruppo di persone o di residenti rispetto ad un altro, perché tutti hanno le stesse identiche necessità e gli stessi identici bisogni, quindi noi dobbiamo essere e qui nell'affrontare questo problema qua. Grazie Presidente, grazie, grazie Consigliere Canelli, ora è iscritto a parlare il Consigliere Rossetti. Ringrazio Presidente, il mio intervento non è per portare a casa, diciamo, acqua al mio personale di Milano, ma per farvi un altro esempio di alcune strade che la passata amministrazione ha indicato in una delibera di giunta per Veveri nell'ambito dell'autorizzazione alla costruzione di numerose abitazioni che nell'immediato futuro queste strade dovrebbero essere acquisite dal patrimonio comunale. E vi faccio un solo esempio per dire come questa situazione sia presente in varie parti della città. Via Santa Caterina Veveri è consortile, però è stata asfaltata e illuminata dal comune, alcuni mi dicono con i soldi della TAV, non ho potuto verificare se fosse vero o meno. Che cosa c'è in questa via? Sul lato destro della via c'è l'asilo comunale, il parco comunale di Santa Caterina, lo stadio comunale di Veveri e in fondo un nuovo parco costruito dalla ditta Provinelli nei confini con il sito dell'autostrada. C'è una sola struttura privata che è un magazzino della Infil. Tutti il resto del lato destro di questa strada che non è comunale è occupata da proprietà comunali. Secondo esempio, quando sono stati fatti i lavori di Veveri abbiamo dovuto deviare anche tutto il traffico pubblico, cioè i nostri bus, da dove potevano passare? Dalle uniche due strade che oltre alla via Verbano portano verso la città, cioè la via Santa Caterina e la via privata Russi. Gli abbiamo anche provocato dei danni. Terzo esempio, il primo pezzo della via Vignale è diventato in senso unico, per cui tutti noi che abitiamo nel centro di Veveri per venire a Novara dobbiamo passare dalla via Santa Caterina e dalla via Russi, perché altrimenti dovremmo tornare indietro fino all'incrocio della via per Cameri e poi a rifare tutto il paese. Per cui sicuramente questi abitanti delle due strade dicono ma ci passa tutto il traffico di Veveri ormai perché non sono comunali. Ecco, sono ancora una privata e l'altra consortile, dove tra l'altro il Comune ripeto ha fatto l'illuminazione pubblica e le ha anche asfaltate in tempi passati. Poi dovrei parlare pro domomea perché c'è anche la via Livio Rossetti, che non sono io, ma un mio cugino, abbiamo scoperto che in quartiere quando lo chiedevamo ci dicevano è privata. Poi io sono andato nell'ufficio dove c'è il famoso foglio Excel con tutte le vie e la geometra Fenini andando in fondo a quella riga che è lunghissima ha detto no no, ha ragione lei, c'è un asterisco, la prima parte della via Rossetti è stata acquisita dal Comune negli anni 70 perché i cittadini di quel pezzo che allora era l'unico abitato hanno ceduto le loro proprietà al Comune, eppure il dirigente del servizio ci ha sempre detto è privata e quindi non è mai intervenuto a tappare le buche eccetera eccetera. No? Ecco, noi abbiamo nel tempo accumulato tutta una serie di incongruenze sulle strade comunali e naturalmente l'acquisizione al Comune vuol dire che poi tutti gli interventi su queste strade ricadrebbero nelle casse del Comune stesso, no? Manutenzione ordinaria e straordinaria eccetera. Quindi certamente bisognerebbe fare una commissione e esaminare zona per zona tutti questi esempi perché ripeto secondo me sono molti a Vignale, a Sant'Andrea, a San Rocco eccetera di strade di questo tipo, cioè che pur essendo o consortili o privati, altro esempio bellissimo è la via delle Rosette, un pezzo è comunale, un pezzo è consortile, solo che su quello consortile adesso abbiamo costruito una grande struttura socio-sanitaria, no? E io ho chiesto agli altri abitanti della zona, dice il consorzio non si riunisce da 60 anni, non sappiamo neanche più chi ne fa parte e quindi la strada è tutta rotta, tutti si lamentano ma nessuno interviene nell'affrontare le varie problematiche. Vi ringrazio. Grazie consigliere Rossetti, ora mi scusi Coggiola, adesso ha la parola perché è iscritto a parlare il consigliere Brivitello. Sì, grazie Presidente. Allora, il problema di queste strade è reale e colpisce non solo la strada della Madonnina come già altri colleghi hanno detto, ma si parla di oltre 200 strade private sul territorio del Comune di Novara. Ovviamente non tutte queste strade private probabilmente godono di uno status che potrebbe permettere di renderle pubbliche. Io ho ascoltato gli interventi dei consiglieri di opposizione di maggioranza e ho una proposta da fare riguardante la mozione, un emendamento riguardante il dispositivo per allargare a non solo strada della Madonnina ma ha una valutazione da fare, magari appunto come diceva il consigliere Rossetti, in commissione applicando i regolamenti del Comune, i regolamenti che già esistono, per valutare quali di queste strade godono delle caratteristiche per diventare strade pubbliche. Ho una proposta di emendamento, se il Presidente vuole posso andare a leggere, mantenendo tutte le promesse, aggiungendo un altro punto alle premesse, evidenziato che in città diverse strade private e vicinali versano in condizioni critiche, pur svolgendo una funzione di pubblica utilità. E poi sostituiamo il dispositivo per intero con il seguente, impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale a relazionare in apposita seduta della seconda commissione consigliare su tutte le strade private e vicinali che vantano i requisiti per il loro passaggio al demanio comunale e o per la costituzione di consorzio, anche allo scopo di finire un programma graduale di passaggio al Comune o di costituzione di nuovi consorzi delle strade, compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno annualmente definite. Io penso che questo emendamento vada proprio nella direzione indicata dai consiglieri, sia di ampliare la tematica a tutte le strade della città, sia come richiedeva il Consigliere Rossetti, di parlarne in un'apposita commissione. Grazie. Grazie Brivitello, se può consegnare il testo alla… Dimenticavo se il proponente è d'accordo. Beh, certamente, poi glielo chiederemo. Ma intanto si può consegnare l'emendamento in maniera che si possano fare le coppie per il capigruppo. Grazie Brivitello. Ora è scritto a parlare il Consigliere Diana, segno Zacchero, giusto? Prego Diana. Grazie, grazie Presidente. Presidente, io vorrei dare un po' più corpo rispetto a una proposta di emendamento che mi sembra vada nella direzione rispetto alle osservazioni che ho sentito fino adesso dai consiglieri di minoranza e maggioranza, oltre all'esigenza reale che il collega Dintino ha espresso con questa mozione presente già da parecchi mesi all'attenzione della Giunta e del Consiglio Comunale. Io ho ascoltato gli esempi fatti dal collega Rossetti, dallo stesso Dintino, da qualcun altro e devo dire che si potrebbero aggiungere a questi esempi altre decine e decine di situazioni di quel tipo. Ecco, però io non vorrei che la complessità reale, reale, corposa della questione andasse poi in un certo senso a sminuire del tutto quelle che sono situazioni davvero particolari. Per cui io credo si debba, come giustamente va ribadito nell'emendamento che è stato presentato da capogruppo, vada ribadito il fatto che ci sia un censimento serio, reale di tutto quello che è presente come situazione, facendo anche, secondo me, una ricerca rispetto anche a situazioni storiche così abbandonate e così non trattate nei decenni passati, che se andate a riprenderle vengono fuori poi delle situazioni che meritano dal punto di vista della vivibilità delle persone che vi abitano in quei posti, davvero molta attenzione. Immagino zone periferiche della città, faccio un esempio anch'io giusto per avvalorare il discorso che faccio. A Turion Quartare esiste una strada consortile dove da decenni si cerca di risolvere una situazione ambientale davvero critica, di questo consorzio facevano parte persone che di sicuro sono anche decedute perché è talmente vecchia come situazione e diciamo così la cosa non va affrontata mai o almeno non è stata mai affrontata. Allora io dico va benissimo la commissione che deve valutare le situazioni, ma io credo ci sia bisogno di prendere un po' il toro per le corna in un certo senso, cercare proprio di stimolare a mio parere un interesse sotto forma particolare da parte degli uffici tecnici del comune che devono su questa questione metterci l'impegno necessario, metterci l'impegno necessario perché ripeto ci sono situazioni e ve lo dico anche dal punto di vista del mio osservatorio del contenzioso che spesso mio malgato sono costretto a vedere. Ci sono delle situazioni dove cittadini e cittadini, proprio perché immersi in situazioni ambigue, in situazioni dove non si capisce di chi è la competenza, di chi è la responsabilità, di chi addirittura rischia, rischia attenzione, delle grosse responsabilità rispetto alla situazione che vive. Faccio un esempio, se è una strada dichiarata ad uso pubblico e su quella strada vi abitano una serie di persone che per mille motivi non si mettono d'accordo per chiudere il buco, è proprio perché è di uso pubblico, una persona si fa male, finisce dentro al buco, spacca la macchina, questa assunzione di responsabilità da parte di chi vi abita, cioè i famosi affacciati sulla strada hanno una responsabilità sulle spalle di cui non si rendono neanche conto, di cui non si rendono neanche conto. Per cui secondo me è una proprio situazione, una situazione di abbandono verso questi cittadini da parte dell'amministrazione, non solo questa, è un permanere di una, è una criticità che permane da quasi 30 anni oserei dire, insomma, ecco, per cui è un argomento, ripeto, che va colorato secondo me di un'importanza, di un'importanza che spesso proprio perché si pensa è complesso, economicamente non riusciamo a sostenerlo, è difficile, viene abbandonato a se stesso. In realtà non deve essere così, non deve essere così perché quello che diceva prima Dintino rispetto agli esempi, quelli che ha raccontato Rossetti, quelli che potremmo raccontare per altri decenni di casi, spesso, ripeto, condizionano la viabilità delle persone in maniera davvero molto pesante. Grazie Presidente. Grazie Diana. Ora ha la parola il consigliere Zacchiero. Ringrazio Presidente, vorrei soltanto far notare che questa mattina abbiamo assistito a un'interrogazione nella quale via delle Acace si richiedeva che tipo di interventi volesse fare il comune dell'amministrazione su via delle Acace, che è una via privata e oggi pomeriggio stiamo assistendo ad una mozione presentata dalla maggioranza, perdone scusa stamattina, il tempo passa quando ci si diverte, questa mattina mozione diciamo che va sulla stesso solco più o meno dell'interrogazione di questa mattina riguarda sempre una via privata che la maggioranza chiede che venga presa in carico dal comune. La risposta di questa mattina all'interrogazione su via delle Acace mi è sembrata decisamente netta da parte dell'assessore, sono curioso di sentire al netto dell'emendamento presentato che cosa ci dirà su questo ulteriore caso di via privata che in qualche maniera vuole essere resa pubblica. Grazie. Grazie Zacchiero, ha terminato? Sì, ha terminato. Ah, non ho capito, vuole del silenzio in aula? No. Posso avere la voce, grazie. Volevo soltanto aggiungere un'ultima cosa che in effetti sarebbe stato interessante sapere fin da subito che cosa ne pensava l'assessore perché... Ah ok, va bene, quindi ha richiesto un parere dell'assessore. Sì, addirittura magari prima del mio intervento, però ormai l'intervento l'ho fatto, l'assessore non si esprimeva e in questa fase è così. Bene Zacchiero, si è terminato. Io non ho iscritto a parlare a nessun altro consigliere, c'è la consigliere Moscatelli, prego. Poi daremo la parola in fondo all'assessore Fonzo per sapere anche il parere dell'aggiunta. Prima Fonzo? No, dopo, dopo. Ok. Io mi rallegro che il PD si sia ravveduto nei confronti di questa mozione che lasciava un forte imbarazzo, almeno in me e nel mio gruppo. E quanto non si può presentare una mozione ad arte, cioè specifica e riferita ad un soggetto quindi stradale ben identificato presentata, fra l'altro, perdonami Dintino, il buon Tom voleva che questa mozione magari tu invitassi qualche collega a presentarla invece che presentarla a tu, consigliere di Santagappio. Dico questo che ringrazio invece l'intervento del capogruppo del PD che ci solleva evidentemente, avendo capito, ci solleva da un forte imbarazzo. Intanto ricordo a Diana che il censimento delle strade private ci è stato fatto e l'ha citato lo stesso Assessore Fonzo nella sua risposta all'interrogazione precedente. Nel 2009 fu fatto un censimento molto serio dallo stesso ufficio che oggi presiede e quindi alla manutenzione delle strade. Forse c'è un regolamento che ha fissato quali sono ovviamente gli elementi che consentono, i parametri che consentono il passaggio da una strada privata ad una strada pubblica, oppure strada privata, consorzio, consorzio e strada pubblica. Ci rimane un tassello invece, sì forse sulla base ovviamente di questi elementi di conoscenza che già abbiamo, occorre stilare un progetto, un programma di priorità. Cos'è prioritario? C'è la strada privata Pincopallino rispetto ad un'altra. Questo è invece l'impegno che credo che debba assumere la Giunta, nel senso di presentare al più presto un programma di priorità che parte dalla strada A e arriva alla Z, quindi delle strade private presenti sul nostro territorio. Questo è un lavoro serio, trasparente, pubblico e credo che debba, dobbiamo intraprendere questa strada nell'ottica appunto della trasparenza. Pubblichiamo questo elenco e l'amministrazione ci dirà se nell'anno 2015 riuscirà a passarne due, tre, quattro, ma di quell'elenco che noi avremo approvato in consiglio comunale. Questo credo che sia il percorso più corretto, tutto il resto non va bene e quindi accolgo l'emendamento ricordando però che ogni riferimento a Via della Madonnina che fosse presente nelle premesse venga eliminato, così come il titolo della mozione venga cambiato che non abbia riferimento assolutamente a Via della Madonnina. Grazie Presidente. Grazie, consigliere Moscatelli. C'è anche Franzinelli che vuole... Prego, prego Franzinelli. Solamente una precisazione anche a seguito delle corrette osservazioni della collega Moscatelli. Abbiamo adattato il testo della mozione proprio a quanto è stato emendato, alla proposta di emendamento che è stata fatta propria dal capogruppo del PD. È ovvio che se si va a intervenire in modo così globale e generale sulle vie private vicinali e consortili sul Comune di Novara, la mozione deve riguardare questo argomento, non deve riguardare un argomento specifico perché altrimenti sarebbe, tra virgolette, inquinata da riferimenti che non sono più congrui. Quindi l'emendamento che proponiamo è proprio come si diceva prima, un adattamento della mozione proprio al dispositivo finale che riguarda tutte le vie private. Grazie. E che le consegno. Quindi c'è un altro emendamento? Ok. Sì, semplicemente sono delle precisazioni che vanno a rendere omogenea la mozione. Praticamente il titolo diventerebbe questo, questo riferimento a via della macchina che scompare come vengono modificati le ultime due commode. Se dovrebbe riuscire a fare, allora chiedo, certo, chiedo alla segreteria di fare delle copie. Grazie. Mi scusi, per fare delle fotocopie in maniera che riusciamo a cogliere, almeno a leggere anche questo secondo emendamento. Grazie. Bene, non avendo altri iscritti a parlare, lascio la parola all'assessore Fonzo, perché è stato tirato in ballo da Zacchiero, è stato chiesto un suo commento, quindi adesso ha la parola. Grazie. Allora, provo un po' a sintetizzare la materia, semplificandole, quindi omettendo alcuni particolari tecnici, ma giusto perché tutti possono avere gli elementi essenziali per conoscere la questione. Il comune di Novara dispone di circa 250 km di strade, che sono di sua proprietà, e su questi 250 km di strade ha un onere per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria. Riesce con fatica a fare la manutenzione ordinaria e con ancora più fatica a fare la manutenzione straordinaria, per evidenti scarsità di risorse economiche, nel senso che le risorse economiche stanziate a questo riguardo si sono via via ridotte per n ragioni, che non è qui il caso di ribadire, ma nei fatti questo è noto a tutti. In passato si utilizzavano strumenti del tipo, quando le risorse sulla parte corrente scarseggiavano ed era possibile invece contrarre dei mutui o trovare fonti di finanziamento, mettere insieme una serie di manutenzioni cosiddette ordinarie che diventavano straordinarie e quindi potevano essere finanziate con investimenti. Oggi anche questa soluzione risulta essere particolarmente difficile perché anche sul fronte agli investimenti ci sono pesanti criticità. È evidente che per un cittadino una strada su cui transitano tutti, su cui non c'è una sbarra o comunque un dissuasore che ne impedisce l'accesso ad altri è una strada cosiddetta pubblica. Nell'accezione dell'opinione pubblica se una via è percorsa da tutti e non ci sono limiti per la percorribilità della stessa è automaticamente pubblica, il che però non è vero, nel senso che quella è una strada privata o consortile cosiddetta ad uso pubblico e quindi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono tutti in capo ai proprietari della medesima strada. Il più delle volte i proprietari non sanno nemmeno di essere tali, nel senso che il più delle volte chi acquista una casa, un appartamento su una via, al lato dell'acquisto non sa che quel tratto di strada è non pubblico, quindi non appartiene al comune di Novara ma appartiene ai cosiddetti privati, perché non lo sa perenne ragioni che qui non è il caso di ritornare, ma è evidente che una collocazione di un'abitazione su una strada non di proprietà del comune di Novara ne riduce il valore in termini commerciali, questo è evidente perché l'onere poi della manutenzione dell'arteria medesima ricade sul soggetto o sui soggetti privati. In passato, sto parlando però di un passato abbastanza remoto, il comune di Novara faceva operazioni di questo tipo, faceva anche manutenzioni straordinarie su strade non sue, cioè è successo negli anni 60, negli anni 70 e in parte anche negli anni 80 che il comune abbia fatto opere di asfaltatura, di illuminazione pubblica su strade che non erano di sua proprietà, perché le risorse a quei tempi consentivano di farlo. In anni più recenti si è preferito, anziché queste formule un po' complicate, un po' confuse dal punto di vista delle competenze, trovare la formula giuridicamente più corretta che è del cosiddetto consorzio, il consorzio fatto tra il comune di Novara e i cosiddetti frontisti in cui le parti, quindi i frontisti, cioè i privati e il comune si mettono d'accordo e dicono va bene questa strada diventa consortile, quindi ci facciamo carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, il comune di Novara di solito ha il 50% di questo consorzio e i cosiddetti privati hanno il restante 50% complessivamente. Qual è il problema dei consorzi? I consorzi però devono avere la unanimità dei privati che li vogliono aderire e molto spesso non tutti i privati vogliono aderire al consorzio. Il caso di strada della Madonnina è per l'appunto questo, nel senso che in quel caso vi è la disponibilità di alcuni privati di costituire un consorzio e di altri privati di non costituire il consorzio e quindi ci ritroviamo in una nuova imparsa, nel senso che a quel punto non è possibile nemmeno percorrere questo strumento. Ci sono anche casi paradossali, ne cito uno visto che sono state citate alcune situazioni, il caso di via Cavodassi, che lo dice il nome stesso, è una strada che copre un cavo, su cui c'è già l'accordo, chiedo scusa, cito il caso di via Cavodassi, su cui c'è già l'accordo tra i comuni e i privati, ma siccome non tutti i privati hanno sottoscritto l'atto di costituzione del consorzio, la strada continua a essere una situazione sostanzialmente in cui nessuno prende in mano la situazione per risolverla, una volta per tutte è considerato che lì c'è una soletta che copre un cavo e quindi a fronte di alcuni privati che sono venuti in comune alla mentale situazione hanno detto che il comune la sua parte l'ha fatta, ha adottato una delibera, è pronto a sottoscrivere l'atto di costituzione del consorzio, siccome non tutti i privati sono andati a firmare l'atto, il consorzio non si costituisce. A onor del vero, visto che qualche consigliere lo ha tirato in valo, il comune di Novara non è sprovvisto né di una mappatura della situazione né degli strumenti giuridici per risolverla, perché l'ufficio strade ha già fatto un elenco delle strade che possono vantare i requisiti per un graduale passaggio a strada comunale o alla costituzione di un consorzio, quindi noi siamo a conoscenza delle situazioni e abbiamo un elenco di tutte le vie della nostra città che hanno i requisiti o per l'uno o per l'altro caso, quindi non è che ci muoviamo sulla base del fatto che ce lo segnala Tizio piuttosto che Caio, perché ha ragione chi diceva criteri di trasparenza e di pubblicità, una strada piuttosto che l'altra perché l'una piuttosto che l'altra ha più requisiti rispetto all'altra, non perché ci abita Tizio, ci abita Caio, ci sono dei criteri, criteri che sono sanciti da specifici regolamenti, ci sono regolamenti approvati dal Consiglio Comunale, non in questo mandato, credo forse in quei due precedenti fanno, non mi pare nell'ultimo se vado a memoria, ecco però, ecco, mi pare che fosse precedente, sì sì, comunque 2009, quindi c'è un regolamento che disciplina anche questo passaggio, è inutile però che ci nascondiamo dietro un dito, perché questo passaggio non è avvenuto? Per una ragione fondamentalmente di bilancio, perché nel momento in cui il Comune incamera nel demanio comunale una strada, non può permettere che resti in condizioni di grave insicurezza per i cittadini, è evidente, e quindi il graduale, non credo che ci sia tanto un problema per quello che riguarda l'acquisizione al demanio comunale di un pagamento di indennizzo ai privati, mi auguro che nessun privato voglia essere, come dire, pagato per la porzione di terreno che fornisce, non c'è assolutamente il problema dell'indennizzo, c'è il problema però dei lavori necessari per la messa in sicurezza della strada, perché il Comune Novara ovviamente non può pensare di acquisire nel proprio patrimonio di mantenere uno Stato che determini insicurezza per i cittadini, quindi il graduale passaggio si fa nella misura in cui le risorse di bilancio lo consentano, ecco perché giustamente e opportunamente l'emendamento proposto dal capogruppo del PD proponeva compatibilmente con le risorse che annualmente vengono stanziate a questo riguardo. Altrettanta motivazione riguarda la costituzione dei consorzi stradali, nel senso che la partecipazione da parte del Comune Novara a un consorzio stradale comporta degli oneri che vanno previsti nella programmazione economica dell'ente, non si può dire aderiamo e poi vediamo, no, nel momento in cui si aderisce ci si deve mettere nell'ottica di prevedere a bilancio determinate risorse affinché il passaggio sia esperito. Io vorrei dire anche un'altra cosa riguardo a Strada della Madonnina, nel caso di Strada della Madonnina la vicenda è ancora più complicata, potremmo citarne altre di situazioni particolarmente difficili, Strada da Mina per esempio, Strada Privata Re, ce ne sono di situazioni così, la città è piena di queste situazioni, ma nel caso di Strada Madonnina la situazione è ancora più complicata, perché lì nell'ambito di una vicenda di una causa civile, a fronte di un gruppo di proprietari che contestavano la realizzazione di un manufatto, quindi era una lite tra privati, non c'entrava niente il Comune di Novara, il giudice ha sancito, ha messo per iscritto, probabilmente esorbitando rispetto al quesito che gli era stato posto, e qui mi metto una formula dubitativa, perché il giudice ha stabilito che i ricorrenti non avevano titolo a presentare quell'istanza perché quella trattavasi di strada pubblica e quindi, come dire, i ricorrenti che sono poi gli stessi che lamentano giustamente le pessime condizioni della strada e che sono gli stessi che vorrebbero fare il consorzio, attenzione, quindi sono quelli che ci metterebbero la buona volontà e anche una quota parte di pagamento necessario per i lavori, sono quelli che dal giudice si sono visti dichiarati soccombenti perché la strada, a parere del giudice, ha le caratteristiche per essere pubblica, ma una strada non può essere dichiarata pubblica da un'autorità giudiziaria, deve essere dichiarata pubblica perché il soggetto pubblico dice è pubblico, altra cosa è la dichiarazione di pubblica utilità dell'arteria, tengo a precisare. Quindi nel caso di strada della Maldonina la situazione è ulteriormente complicata proprio perché il giudice diversi anni or sono dichiarò che quella aveva le caratteristiche per essere una strada pubblica e questa dichiarazione rese le parti che sono poi le stesse, che vogliono costituire il consorzio e lamentano le pessime condizioni della strada, che oggettivamente è in pessime condizioni, che dicono ora c'è un giudice che ha detto che quella strada ha le caratteristiche per essere pubblica e noi chiediamo che sia pubblica, in realtà non è una sentenza di un magistrato che può dichiarare se una strada è del comune o non è del comune, visto che il proprietario che dovrebbe essere il comune dichiara che non è del comune. Quindi l'emendamento presentato dai gruppi consigliari, non ho visto il testo dell'emendamento proposto dal Consigliere Franzinelli, quindi non è in contrasto, l'emendamento presentato dai gruppi consigliari di maggioranza va nell'ottica di dire il problema c'è, non riguarda solo strada la Madonnina, ma riguarda tante altre arterie della nostra città, stabiliamo un programma, non ho nessuna difficoltà anche a prevedere più di una commissione consigliare, avevo già chiesto in tal senso al Presidente della seconda commissione consigliare di attivarsi perché procedessimo, di venire in commissione, illustrare l'elenco dettagliato delle due tipologie, cioè di quelle che possono diventare strade pubbliche, di quelle che hanno i titoli per fare un consorzio e sulla base poi delle disponibilità che in sede di bilancio potranno essere stanziate capire in un ordine di priorità con quali partire. Grazie. Grazie Assessore Fonzo, riassumendo al punto in cui siamo arrivati abbiamo la presentazione di due emendamenti, però io per correttezza preferirei dare prima la parola al proponente della mozione per sapere la sua disponibilità ad accoglierli. Se capisco bene, quindi è una... non è un terzo ma... È una fusione esattamente. Però poi bisogna vedere se i colleghi che hanno presentato l'altro... Credo di sì, almeno la mia proposta è in accordo con i proponenti del secondo emendamento e in accordo al proponente della mozione. Sentiamo, prego. Lo scopriremo subito, lo scopriremo subito. Rimanendo inalterato il primo emendamento proposto, si aggiunge come subemendamento, le seguenti due modifiche. Una riguardante l'oggetto della mozione, da presa in carico e gestione comunale di via della Madonnina a presa in carico e gestione comunale di vie private ad uso pubblico. Seconda modifica è un'aggiunta all'emendamento presentato dalla maggioranza, nel primo capoverso dove si aggiunge un punto nelle premesse, lo rileggo, evidenziato che in città diverse strade private vicinali versano in condizioni critiche pur svolgendo una funzione di pubblica utilità, e qui la frase continua, e qui appunto la seconda modifica, è che l'esempio sopra citato di via della Madonnina è esposto a puro titolo esemplificativo. Il resto dell'emendamento rimane uguale, quindi anche la modifica al dispositivo. Brivitello, intanto consegni per cortesia al Banco della Secretaria, consegno il sub-emendamento per fare le fotocopie. Intanto Franzinelli mi ha chiesto la parola per commentare questa proposta. Solamente per chiedere se non è il caso anche a fronte di quanto ha dichiarato adesso l'assessore Fonzo di togliere la frase relativa alla sentenza del Tribunale, perché mi sembrava un po' fuori luogo nella mozione, anche perché si riguarda una via in oggetto che non esiste più, e quindi anche a fronte di quanto ha dichiarato, forse la frase relativa alla sentenza del Tribunale credo sia utile toglierla. Grazie. Dopodiché l'emendamento presentato complessivamente per quanto ci riguarda va bene. Grazie Franzinelli, allora a questo punto per la regolarità della procedura io proporrei di, se siete d'accordo, di retrocedere sui primi due emendamenti proposti qui in segreteria, quindi di ritirare i primi due emendamenti e di mettere in votazione a questo punto solo dopo aver sentito il parere del proponente della mozione, se riteniamo la mozione appunto emendata come... Allora, aspettiamo un attimo che vengano fatte le copie e leggiamo bene che cosa c'è nella terza proposta per cortesia, così se no... Prego Brivitello. Grazie. No, per eliminare qualsiasi dubbio ripeto quello che ho detto prima, allora in aggiunta all'emendamento presentato ai gruppi di maggioranza, esistono state apportate due modifiche, una riguardante l'oggetto della mozione e una aggiungendo una parte di frase alla premessa aggiunta nell'emendamento. L'emendamento presentato alla maggioranza rimane invariato anche nella parte del dispositivo e quindi è modificato come da emendamento proposto precedentemente. Grazie. Grazie Brivitello. No, un attimo che dobbiamo capire perché il precedente è abbastanza confuso in questo momento. Allora, intanto sentiamo il primo firmatario della mozione se è d'accordo sugli emendamenti e sulla... diciamo sulla... su come stiamo portando avanti la discussione. Grazie Dintino. Prego Dintino. Sì, grazie Presidente. Sicuramente visto il risultato ho fatto bene a portare la mozione in discussione perché comunque era un tema sicuramente molto caldo e sentito da parte di tutti. Io ho portato via dalla Madonnina, faccio subito presente che non abito via dalla Madonnina, quindi risparmierei le lezioni di Bontone dalla collega Moscatelli perché non ci vedo nulla di male portare l'esempio di una strada che fa parte del comune di Novara. Quindi non mi sento in un conflitto di interessi o quantomeno che io perché debba essere punito rispetto a aver presentato una mozione. Sicuramente l'ho portata perché è un interesse generale, è un interesse... ho portato un esempio sulla strada Madonnina perché mi sono incontrato con il residente di strada Madonnina e quindi ho portato un'istanza e mi sembra che sia quantomeno giusto e corretto. Sicuramente l'emendamento, diciamo l'ultimo emendamento, così ci capiamo, va benissimo. Non è un problema togliere anche i riferimenti della Madonnina perché sono d'accordissimo anch'io che non ci debba essere un privilegio di via della Madonnina piuttosto che i via della Riotta o di un'altra via di Novara. Tutti i cittadini devono avere o tutte le vie pesi uguali, misure uguali sulle valutazioni di interesse piuttosto che da passaggio privato a pubblico. Questo è chiaramente giusto e corretto. Quello che poi mi sento di dire, e questo lo dico in maniera molto forte anche al Vice Sindaco, nonché assessore anche ai lavori pubblici, mi piacerebbe che però da questa mozione effettivamente poi si faccia un nucleo operativo nel senso stretto della parola, in modo tale che facciamo le commissioni, facciamo tutti gli studi che vogliamo, un po' il tema che ha affrontato anche il collega Diana e per poi arrivare anche a una conclusione, giustamente anche con finanze permettendo perché poi alla fine purtroppo quello che decide sempre da padrone sono i soldi e questo lo sappiamo benissimo tutti quanti. Però penso che secondo il regolamento che è del 2009, secondo anche quello che è stato fatto l'elenco, mi sembra sempre fatto nel 2008-2009 che ho un elenco, in questo elenco mancano tutte le strade che oggi sono state portate ad esempio, o la maggior parte delle strade che sono state portate oggi ad esempio in discussione in Consiglio Comunale. Quindi vuol dire che questo elenco ormai è da aggiornare o quantomeno è da rivedere. Quindi va bene, io sono d'accordo su quanto proposto nell'ultima variazione dell'elementamento. Grazie. Grazie consigliere Dintino. Allora, se va eliminato un ulteriore passaggio della parte discorsiva della mozione, occorre magari presentare subito l'emendamento, lascio un attimo il tempo. Naturalmente ricordo che non esiste il subemendamento all'emendamento, ma esiste la modifica dell'emendamento presentato, diciamo. Ma secondo me forse il problema è comprendere come viene fatto l'emendamento, diciamo. La mozione in sé per sé può essere ritirata solo se il proponente non è nepputa necessaria e utile. No, io credo che... Mi pare che ci sia questo. In corso di presentazione degli emendamenti ne è mancato un pezzo che è stato aggiunto. L'emendamento primo presentato naturalmente in questo caso scompare perché il vero emendamento è quello che poi ha avuto una completezza di indicazione a cui si aggiunge questo presentato dal gruppo della Lega Nord e firmato dal consigliere Franzinelli che sostanzialmente si aggiunge e non è in contrasto con l'emendamento presentato dal capogruppo di maggioranza Brevitello e quindi sostanzialmente la mozione verrebbe modificata, naturalmente con l'accordo dichiarato da parte del proponente, in questi termini, nell'oggetto presa in carico e gestione comunale di vie private ad uso pubblico che va a modificare l'oggetto che indica via della Madonnina. L'emendamento dice alla fine delle premesse si aggiunge un punto, evidenziato che in città diverse strade private e vicinali versano in condizioni critiche pur svolgendo una funzione di pubblica utilità e si aggiunge sempre nell'emendamento questo ulteriore passaggio e che l'esempio sopra citato di via Madonnina è esposto a puro titolo esemplificativo. L'emendamento prosegue dicendo che si sostituisce l'intero dispositivo con il seguente, impegnano il sindaco e la giunta comunale a relazionare in una apposita seduta della seconda commissione consigliare su tutte le strade private e vicinali che vantano i requisiti per il loro passaggio al demagno comunale e per la costituzione di consorzi anche allo scopo di definire un programma di graduale passaggio, no era la caramella consiglia, che è andata per traverso, di graduale passaggio al comune o di costituzione di nuovi consorsi delle strade compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno annualmente definite. Questo è l'emendamento diciamo così più importante a cui si aggiunge secondo l'emendamento che chiede di togliere il periodo che una sentenza del Tribunale di Novara ha sancito la pubblicità della via in oggetto. Allora, siccome mi pare che ci sia l'accordo del proponente la mozione, io penso di poter mettere in votazione la mozione come modificata dagli emendamenti che sono stati proposti. Pertanto a questo punto io chiedo, sugli emendamenti no, ma in questo caso la dichiarazione di voto è assodata nel momento in cui il proponente le accetta, no ma non è una questione di scusa, va bene, allora io metto in votazione quello che era il punto 6 in origine relativa a mozione relativa presa in carico di gestione comunale di via della Madonnina come modificato dai due emendamenti presentati e accolti dal presentatore alla mozione per cui chi è a favore e per cortesia può alzare la mano. Rilevo. Sì, dipende da cosa fa il consigliere Canelli. Ah, grazie. Rilevo l'unanimità dei presenti e votanti, quindi la mozione è approvata come modificata dai emendamenti. Passerei a questo punto alla mozione numero 289. No. Verifichiamo. Sì, 289. Adesione al programma United Nation Global Compact City Program. La prossima volta chiederò la traduzione. Il Consiglio Comunale, premesso che gli scandali che hanno colpito numerose istituzioni democratiche italiane, anche a livello locale, hanno provocato una profonda crisi di fiducia da parte dei cittadini verso tali istituzioni, considerato che è ormai riconosciuta la pericolosità delle infiltrazioni criminali e delle reti clientelari nelle amministrazioni pubbliche. Un intervento forte a tutela della legalità e della corretta etica pubblica si rende quanto mai necessario per ridare credibilità a tutte le amministrazioni locali e centrali dello Stato. I principi di garanzia e di trasparenza amministrativa sono principi già adottati nello Statuto del Comune di Novara. È necessario proseguire lo sforzo di rendere la città di Novara più aperta, trasparente e connessa con il mondo esterno, soprattutto a ridosso di un evento di grande portata economica e turistica come Expo 2015. Preso atto dell'esistenza dello United Nation Global Compact, un programma che propone alle aziende di aderire ai principi universalmente riconosciuti sotto la partnership delle Nazioni Unite. Tali principi sono diritti umani. Le aziende sono invitate a promuovere la protezione del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo, ad assicurarsi di non rendersi complici di alcuna violazione dei diritti umani. Norme internazionali sul lavoro. Le aziende sono invitate a rispettare la libertà di associazione e a riconoscere l'effettivo diritto di negoziazione collettiva, a contribuire all'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato obbligatorio, a contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile, a contribuire all'eliminazione di qualunque discriminazione in materia occupazionale e professionale. Ambiente. Le aziende sono invitate ad applicare un approccio precauzionale ai problemi concernenti l'ambiente, intraprendere iniziative tese a promuovere una maggiore responsabilità ambientale, ad incoraggiare la messa a punto e la diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente. Lotta alla corruzione. Le aziende sono invitate ad agire contro la corruzione in sua forma, inclusa l'estorsione e la concursione. Dell'esistenza dell'United Nation Global Compact Cities Program, questo ancora di più, un programma che propone l'allargamento dei dieci principi dell'United Nation Global Compact alle amministrazioni cittadine e il trasferimento dei suddetti principi nel governo cittadino e nel management pubblico. Dell'impegno che questa amministrazione ha profuso in questi anni per garantire una gestione più trasparente e aperta possibile impegnano il Sindaco e la giunta comunale e l'amministrazione tutta ad attenersi nel svolgimento delle proprie competenze amministrative al rispetto dei dieci principi contenuti nel programma dell'United Nation Global Compact, a inviare una lettera indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite siglando l'adesione della città di Novari, i dieci principi del Global Compact e la partecipazione dell'amministrazione alle attività del programma, farsi promotori presso le aziende del territorio di tale iniziativa affinché anche esse possano aderire ai principi dell'United Nation Global Compact. La firma è quella dei consiglieri di maggioranza, chiedo se c'è qualcuno che vuole illustrarlo, prego consigliere Lia. In russo si dice Gavarit, così almeno equilibriamo con l'inglese. Grazie Presidente. Innanzitutto mi permetta di ringraziare i giovani democratici della città di Novara che mi hanno proposto questa iniziativa e con il quale abbiamo steso il testo definitivo del documento. Il Global Compact Program è un programma delle Nazioni Unite nato nel 2003 per cercare di fornire dei principi base a livello mondiale per la gestione della cosa pubblica e anche della gestione delle imprese private. Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso l'adozione di dieci punti proposti da questo programma che riguardano, come potrete leggere bene nel dispositivo, aspetti legati al rispetto del diritto umano, rispetto delle norme internazionali sul lavoro, al rispetto dell'ambiente e soprattutto alla lotta alla corruzione. Ed è proprio questo, in particolar modo, il punto che ci ha fatto riflettere sulla necessità di dover presentare questa mozione. È sotto gli occhi di tutti, per esempio, quanto sta accadendo a Roma in questi giorni. Consorterie o presunte tali che gestiscono appalti pubblici a loro piacimento, mafiosi che decidono appalti e nomine all'interno di enti pubblici o di partecipate. Dirigenti comunali, e quindi mi permetto di sottolineare i dirigenti dello Stato, che non tengono fede al loro patto di lealtà e onestà verso l'istituzione che rappresentano e cercano la strada più breve per l'arricchimento personale a danno dei cittadini. E potrei fare altri esempi di questo tipo, anche perché la mozione non è stata presentata oggi. Pagine purtroppo orribili di storie che non rendono onore invece alle tante persone oneste che lavorano sodo, anche all'interno della pubblica amministrazione e che fanno il bene di questa nazione, giorno dopo giorno e nel silenzio più totale. C'è chi stima il costo della corruzione in Italia intorno ai 60 miliardi di euro l'anno. Io personalmente non sono in grado di dire se questo dato sia vero o meno, ma sicuramente dall'idea delle dimensioni di questo fenomeno, che unito ai costi dei mancati investimenti esteri in Italia, l'evasione fiscale, la lentezza dei processi civili e le economie sommerse legate alle attività criminali, creano un danno di immagine per l'intero Paese difficilmente quantificabile in termini monetari. È proprio notizia di oggi che l'Italia è considerato uno dei Paesi più corrotti d'Europa, anzi il Paese più corrotto d'Europa e questo dato traspare dall'indice di percezione della corruzione 2014 stilato da Transparency International. Per la precisione il nostro Paese si colloca al 69esimo posto, su più di 170 Paesi ed è l'ultimo tra i Paesi del GIF7. Siamo dietro a Paesi come il Ghana, Cuba, la Bulgaria, la Grecia e la Turchia. Questa mozione ha, se vogliamo, l'ambizione di invertire questo ordine di cose e lo fa chiedendo all'amministrazione comunale di aderire formalmente, ma anche sostanzialmente, a quei principi individuati dalle Nazioni Unite che aiuterebbero a ridare un po' di credibilità internazionale a tutto il Paese e soprattutto in vista di un avvenimento internazionale che si darà proprio alle nostre porte, quale l'Expo 2015. L'adesione al programma permetterà al Comune di Novara di poter entrare a far parte di un network di città che vi hanno già aderito, quali Berlino, San Francisco, Barcellona, Oslo, Amsterdam, nel quale sarà possibile scambiare opinioni e buone pratiche amministrative anche attraverso la sperimentazione di nuove prassi nella gestione della cosa pubblica. Sottolineo anche il fatto che in Italia saremo il primo Comune, nel caso il Consiglio Comunale volesse adottare il dispositivo, ad aderirvi, il primo Comune del Nord ad aderirvi. In Italia gli altri Comuni che vi hanno aderito sono il Comune di Acerre e di Taranto e la Regione Toscana. Vi sono diversi livelli di adesione, sono tre livelli fondamentalmente di adesione a questo programma, quello base è quello che proponiamo noi, cioè la firma e la stipula, poi successivamente si potrà, se l'amministrazione vorrà tenerne conto anche aderire al programma in maniera un po' più complessa e parteciparvi in maniera più attiva. Noi per il momento chiediamo la semplice adesione e chiediamo che l'amministrazione si faccia carico non solo di attenersi nello svolgimento dell'attività amministrativa quotidiana a tali principi, ma anche di essere essa stessa promotore presso le aziende del territorio di tali iniziative, affinché anche esse possano aderire a tale programma. Io ho concluso, ringrazio. Grazie consigliere Lia, è iscritto a parlare il consigliere Perugini. Grazie, grazie Presidente. Ho ascoltato il collega Lia, ho letto il testo, ho letto il dispositivo, io mi limito, non so se lei Presidente può concedere al consigliere Lia di reintervenire e io non ho capito cosa hai proposto. Grazie Presidente. Grazie. Puoi intervenire perché non è intervenuto, ha illustrato la mozione, prego consigliere Zacchiero. Grazie Presidente. Vi prego svegliatemi, perché mi sembra di stare in uno di quei sogni un po' strani, no? E questo secondo me è proprio uno di quei casi. Noi in Italia siamo, l'Italia è l'unico Stato al mondo che prevede la certificazione antimafia per le aziende. Siamo lo Stato al mondo con il welfare e la normativa sul lavoro più tutelante nei confronti dei lavoratori e oggi stiamo chiedendo a questo Consiglio Comunale, diciamo l'Italia con questa mozione, di adeguarsi a un qualche cosa che è meno restrittivo di ciò che in Italia oggi e in essere c'è dal punto di vista delle norme. In più non lo stiamo facendo in maniera fattiva, cioè facendo aderire questo comune a tutti e tre i livelli di cui parlava prima il Consigliere Elia, ma soltanto così formalmente aderire all'iniziativa, senza che però poi questo comporti nulla di pratico dal punto di vista del miglioramento. Aria fritta si chiama dalle mie parti, aria fritta. In Italia ci sono norme, ci sono regole, regole, cerchiamo di approvare un po' meno job act che vanno a disintegrare quella che è la protezione dei lavoratori e cerchiamo comunque in ogni caso di andare nella direzione in cui l'Italia dal punto di vista normativo è sempre andata, ma le norme che ci sono e cerchiamo di farle rispettare. Non cerchiamo di riempirci la bocca di anglicismi, il job act, il coso, questa adesso ultimamente com'è che la si chiama, adesso se poi il Consigliere Elia vuole gentilmente pronunciarcelo un po' meglio in inglese, perché in realtà in Italia sarebbe sufficiente fare rispettare le regole che ci sono. Siamo lo Stato dove la guardia di finanza, siamo praticamente l'unico Stato al mondo in cui esiste la guardia di finanza, però siamo anche lo Stato probabilmente al mondo, uno degli Stati più in alto al mondo nella graduatoria dell'evasione fiscale. Abbiamo un articolo 18 che tutela dei lavoratori, che arriva al PD e lo polverizza, in nome di non si sa bene che cosa. Abbiamo la normativa antimafia, però per la TAV i contratti cerchiamo di farli in Francia, perché in Francia invece non c'è la normativa antimafia per i contratti. A me sembra veramente un incubo questo, non un sogno, di più un incubo. La solita foglia di fico che ci si vuole mettere davanti per dire noi questa cosa l'abbiamo fatta, per coprire le pubenda, come si direbbe in termini un po' aulici, perché siccome non siamo in grado di far rispettare la normativa che abbiamo in Italia, siccome non ci riusciamo o non vogliamo farlo per motivi che in questo momento mi sfuggono, allora ci attacchiamo a un qualche cosa scritto in un'altra lingua da paesi, probabilmente proposto da paesi che non hanno una normativa così stringente come la nostra, andando in questo modo verso la direzione di allargare le maglie dei controlli che oggi noi in Italia abbiamo più stretti. Questo è. Si tratta di questo, soltanto di questo. Poi se vogliamo aderire, per la carità, non si è mai detto avrete il mio voto, non è questo il problema, però sappiamo che questa adesione non comporterà nulla per il Comune di Novara a livello pratico, se non quella di andare a propagandare questa iniziativa presso le aziende non si sa bene bene a quale titolo oltretutto, ma niente di più, perché poi come giustamente il consigliere Elia diceva nella spiegazione, sarà poi cura dell'amministratore verificare se ci saranno le condizioni perché poi si possa aderire a un secondo e al terzo livello di questa iniziativa. Guardate, a me, lo ripeto, sembra una scusa messa lì per non far rispettare le regole che oggi ci sono, che sono più che valide, possono essere migliorate, ma ci sono, altrove non ci sono. Noi le abbiamo, facciamole rispettare, incominciamo a farle rispettare. Grazie. Grazie consigliere Zacchiero, consigliere Franzinelli. Consigliere Andretta. No, ma era un intervento di tre minuti, ma fallo qui. Prego, allora, voce al consigliere Andretta. Presidente, io ho un buon elettricista che viene spesso a casa mia, se vuole lo mando in comune a mie spese. Anche in provincia, grazie. Così avremo modo. Ma semplicemente leggendo il testo volevo chiedere al consigliere Elia, che evidentemente è il presentatore di questa istanza, se si potesse avere una maggior descrizione del punto dove indica l'impegno che questa amministrazione ha profuso negli anni per garantire una gestione più trasparente e aperta possibile, perché una mera enunciazione, secondo me, va anche meglio, diciamo così, ampliata nel suo ragionamento, articolata e motivata, perché altrimenti sembrerebbe una mera enunciazione di principio che ci piacerebbe invece sapere con quali atti concreti e formali questo si è verificato. E poi soprattutto nella prima premessa, nelle prime due righe, quando fa riferimento agli scandali che hanno colpito numerose istituzioni democratiche, anche a livello locale, anche qua discutere un documento che cita delle difficoltà che hanno provocato una profonda crisi di fiducia da parte dei cittadini verso le istituzioni, anche qua secondo me è troppo superficiale un'enunciazione di un principio così aggressivo nei confronti del testo nel suo complesso, però anche questo secondo me quando si fa riferimento a livello locale, evidentemente a livello locale si sono verificati tanti accadimenti, a quali di questi accadimenti il testo della mozione va nella direzione. Mi sembra, ripeto, per una maggior partecipazione, maggior consapevolezza del testo che si va a indicare, ma soprattutto anche del pensiero, perché il consigliere lì ha fatto un'ottima illustrazione, ma di questi due punti non ha approfondito, io lo ritengo doveroso, prima di poter procedere, permettere ai consiglieri di iniziare il dibattito. Grazie Presidente. Grazie a lei. Intanto però ho riscritto a parlare il consigliere Panzinelli. Che sarà brevissimo. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi di minoranza, che si sposano un po' tutti. Io sinceramente, perché sarò brevissimo? Perché a fronte di quanto è stato un po' detto dal collega Zacchiero, ma anche dal collega Andretta, a questo punto mi faccio ulteriormente la stessa domanda che si è fatto il consigliere Perugini. Perché se dobbiamo andare a denunciare dei principi morali che credo tutti quanti dobbiamo e devono sposare, io chiedo cosa andiamo a votare poi alla fine? Che cosa dobbiamo fare con questo documento che concretamente tocchi il Comune di Novara? Per dire che dobbiamo essere tutti onesti, bravi e buoni, diciamocelo anche con una mozione, però sinceramente io credo che il compito di questo consiglio sia essere concreto. Concreto in termini veri, non concreto solo di facciata. Io credo davvero che, insomma, sinceramente me lo chiedo, io non so che cosa sto andando a votare. Grazie. Allora, io per il momento non ho altri iscritti a parlare, se c'è qualcuno che vuole intervenire, se no, democraticamente, sì, democraticamente mi do la parola, democraticamente se no mi do la parola. Consigliere Lio vuole intervenire? Consigliere Brivitello. Sì, grazie Presidente. Mi ricollego all'intervento che ha fatto il consigliere Zacchiero che dice ma in Italia ci sono già le leggi, cosa serve andare a votare questo documento? Abbiamo alcune delle leggi più specifiche, più particolari riguardanti soprattutto l'antimafia, eccetera, cosa serve andare a votare questo documento? Sì, è vero in Italia abbiamo le leggi, ne abbiamo anche da tanti anni, alcune di queste leggi fatte anche bene, non sempre le leggi sono fatte bene, alcune sono fatte molto bene, come quelle citate dal consigliere Zacchiero. Quello che manca però, vedendo i fatti di cronaca, vedendo la realtà, vedendo anche come citava prima il consigliere Lio e il posizionamento dell'Italia nella classifica mondiale per percezione della corruzione, serve una promozione della cultura della legalità, che forse manca in questo paese, è mancata, ed è proprio a quello che mira il documento, a una promozione della cultura della legalità. Poi è vero quello che dicono i consiglieri, dicono non capiamo cosa, non è vero in realtà, non capiamo perché dobbiamo votare un documento così generico, in realtà quello che dice il documento, quello che propone questa iniziativa delle Nazioni Unite, questo è il primo step e ce ne sono altri, è proprio tutto indirizzato a una promozione della cultura della legalità, quella promozione che già in Italia da qualche anno alcune associazioni stanno promuovendo sul territorio, viene a pensare a Libera per dire la più famosa, ma ce ne sono tante altre che lo fanno, per promuovere sia presso i giovani, sia nelle istituzioni, sia nella società, la cultura della legalità, che ripeto, purtroppo in questo paese tante volte manca. È tutto lì il documento, i principi elencati sono principi che io penso siano condivisibili e spero siano condivisi da tutti, la promozione anche presso le aziende che propone il documento, è per far avvicinare le istituzioni, le aziende e promuovere presso anche i privati, quindi presso anche la società, questa cultura della legalità che purtroppo spesso manca, l'abbiamo vista anche negli anni passati con il traffico dei rifiuti in cui erano coinvolte aziende legali e nobilissime nel Nord Italia che però spesso si andavano ad appoggiare a criminali per risparmiare, per gestire rifiuti. Vediamo spesso che la corruzione ha sempre due parti, una parte privata e una parte pubblica e spesso la parte privata sono aziende, infatti la maggior parte della corruzione, l'abbiamo visto ancora nelle cronache di questi giorni, riguarda le aziende più che i privati. Per cui io invito ai consiglieri a, magari adesso sentiremo anche il consigliere Elia se riesce ad ampliare la spiegazione del documento e di tutta l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite, però la direzione è questa, quella della promozione della cultura della legalità e io penso che su questo tema qui si debba essere tutti assolutamente d'accordo. Grazie. Grazie. Grazie per il vitello. Prego. Semplicemente un pochettino per, poiché ha parlato il capogruppo del PD e quindi già questo dà un tono di ulteriore impostazione del dibattito fatto con contenuto, io inviterei anche il capogruppo del PD a spiegare meglio i fatti di cronaca che sono stati altrettanto indicati, così come nel testo della mozione, ma non, diciamo così, elencati in uno specifico. Quali sono questi accadimenti che sono stati richiamati quindi a questo punto non soltanto nel testo, ma anche nella illustrazione del capogruppo del PD perché sarebbe piacevole conoscerlo. È chiaro che a tutti quanti interessa il culto della cultura della legalità, siamo un po' meno, siamo molto più perplessi quando invece si alimenta la cultura del sospetto. Per cui se il capogruppo del PD, consigliere comunale democraticamente eletto in sede di consultazione popolare, possa cortesemente specificare nel meglio a quali fatti di cronaca si sono verificati, che sono accaduti, che sono stati oggetto di accadimento e che hanno portato il gruppo del PD a richiamare e a stendere questo testo di questa mozione, farebbe secondo me non soltanto cosa gradita, ma anche cosa doverosa affinché tutto il consiglio comunale possa pronunciarsi nel testo. Grazie. Grazie, grazie Andretta. Penso che forse potrà venirle incontro il consigliere Elia che mi ha chiesto di intervenire, quindi prego Elia. Grazie. Allora, intervengo in risposta ad alcuni quesiti fatti giustamente dall'opposizione perché è chiaro che può destare qualche perplessità, una mozione che invita gli amministratori a fare il loro dovere. Dopodiché io… no, no, ma infatti… Facciamo un dialogo… Allora, parto dal primo punto, ma non è che se noi approviamo questi principi allora da domani, ma sol perché la legislazione italiana probabilmente è anche più avanti rispetto ad alcune delle cose proposte, allora noi recidiamo rispetto a quanto abbiamo approvato fino a oggi, non è assolutamente così, lo dicevo giustamente prima il mio capogruppo, la promozione della cultura, della legalità e non solo, però visto che la domanda mi è stata posta in termini abbastanza perentori rispetto alla necessità di approvare tale mozione, io leggo semplicemente quanto scritto nella mozione, le aziende sono invitate a promuovere la protezione del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo ed assicurarsi di non rendersi complici di alcuna violazione dei diritti umani. Ora, basta aprire per esempio un giornale, anche uno di oggi, per vedere casi di sfruttamento per esempio in Puglia dove vengono sfruttati i lavoratori quasi schiavizzati per raccogliere pomodori, ma potremmo fare altri esempi anche non tanto lontani da noi e capire come in realtà questo tipo di mozione a volte sì, a livello di principio sono tutti quanti d'accordo, ma poi nella pratica metterla in atto non è così scontato come sempre, quindi forse probabilmente una promozione a maggior ragione da un ente come quello del Comune di Novara è quanto mai auspicabile da questo punto di vista. Le aziende sono invitate a rispettare la libertà di associazione e a riconoscere l'effettivo diritto di negoziazione collettiva, ma adesso non voglio fare polemica più di tanto, ma mi sembra che qualche mese fa un'azienda proprio che locale ormai non è più, la Fiat a Torino sia stata condannata per atti discriminatori a livello sindacale. E poi c'è tutto il tema dell'ambiente e poi la lotta alla corruzione che ci ha spinto ancora di più a presentare questa mozione. Sempre rispondendo al consigliere Zacchero, l'adesione per il momento al primo livello è innanzitutto uno step, perché poi si potrà passare sicuramente ad un livello successivo. La richiesta è stata fatta al primo livello per un motivo molto semplice, siccome si entrerà a far parte di un network di comuni e non solo, all'interno dei quali si lavorerà, perché non è una cosa banale e questo comporterà chiaramente anche dei lavori in più. L'adesione a programmi successivi ha anche un costo e quindi da questo punto di vista io personalmente non mi sono impegnato ad imporre all'amministrazione dei costi, anche perché poi si sarebbe dovuto avere un parere contabile di questa cosa. Mentre il primo step non ha dei costi e comunque è sempre bene iniziare dalle basi per poi andare avanti. Io per esempio se vai sul sito internet c'è scritto tutto, la municipalità di Berlino è per esempio una innovating city, cioè vale a dire loro hanno adottato il programma più alto e sono fondamentalmente dei pionieri da questo punto di vista nella messa in pratica di tecniche di amministrazione e non mi sembra che a Berlino abbiano meno regole rispetto a noi sulla trasparenza, anzi. Dopodiché vengo a quanto ho chiesto dal consigliere Andretta, ma gli atti rispetto alla quale l'amministrazione ha portato avanti la sua politica di trasparenza sono molti. Ne cito uno, giusto così per rimanere nel tema, per esempio l'approvazione del regolamento per gli appalti pubblici, approvato all'unanimità però in questo consiglio comunale e mi sembra che quello sia stato un passo avanti dell'amministrazione da questo punto di vista. Dopodiché mi viene chiesto per quale motivo ho citato scandali anche a livello locale. Beh, adesso basterebbe semplicemente aprire un giornale, ma non cadrò nella polemica nella quale mi vuole portare il consigliere Andretta. Sì, no, so che il punto sulla quale vorrebbe portarmi è su una polemica sterile tra quelli di prima, quelli dopo, quelli che c'erano prima. Allora faccio un esempio proprio al di sopra delle parti. E' notizia di oggi che il vicepresidente della regione Aldo Reschigna, non quindi esponente dell'opposizione né in regione né in comune, è chiamato a dover rispondere di alcuni comportamenti che ha avuto durante il precedente mandato legati a fatti, guarda caso, di possibili mancanze mancanze di trasparenza, peculate eccetera. Io non sto dicendo che vi sia una colpevolezza o una non colpevolezza in questo senso, però venirmi a dire che di punto in bianco siamo dei candidi e non è mai stato fatto nulla in Italia, tale per cui una mozione del genere è addirittura superflua, mi sembra un po' eccessivo. E con questo concludo. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Elia. E' iscritto a parlare il consigliere Bosio. E beh, presidente Bosio. Prova l'altro. E' un po' leggero. Grazie. Allora, ed è tutto evidente che questa mozione, come molte altre di quelle che sono state approvate in questo Consiglio Comunale negli anni passati, ricordo il codice etico che fu approvato nel mandato, diciamo, tra il 2001 e il 2006, presentato dal consigliere comunale, allora mi pare iscritto ad AN, è una mozione che dà l'indicazione di una posizione di carattere etico e che vuole essere, come dire, l'impegno che ciascuno di noi individualmente, ma come amministratori ci impegniamo quantomeno a conoscere, sapendo che ognuno di noi agisce nella sua azione amministrativa, sempre politicamente con l'interesse generale come obiettivo comune. Però è chiaro anche che noi viviamo in una condizione particolarmente difficile, in cui l'elemento di novità di questa mozione, in realtà, non sta nel ribadire o nel rafforzare o nel voler rimarcare l'elemento di scarsa etica o di crisi etica che la politica ha in questo momento e che soprattutto i cittadini sentono nei confronti della politica. politica. Vorrei rassicurare anche il consigliere Zacchiero che vi è un mondo, anche dentro il Partito Democratico, che rispetto alle scelte del Job Act oppure alle scelte dell'articolo 18, rivendica il diritto di non essere d'accordo con i governi. Rivendica il diritto di non essere d'accordo. Se io fossi un deputato del mio partito in Parlamento, poiché ritengo di non avere un vincolo di mandato nei confronti di una maggioranza che governa un partito, io avrei votato contro a quelle proposte. Quello che la mozione in realtà introduce è un elemento nuovo, tra l'altro non è la mozione che lo introduce, è una visione che parte dalle Nazioni Unite, perché l'attenzione su cui viene incentrato, diciamo così, questo United Nations Global Compact, è l'attenzione nei confronti dell'etica della responsabilità che le aziende devono avere, non solo nei confronti della società, ma soprattutto nei confronti dei loro lavoratori, che non sono secondariamente una risorsa diciamo così secondaria o sprecabile, ma che in questo momento in realtà lo sono e forse si indirizza anche a porre l'accento su quello che è il problema emergente che viviamo anche tutti noi, cioè qualcuno pensa soltanto a dei profitti per come vengono, ma non pensa a chi quei profitti contribuisce con il proprio lavoro manuale e anche intellettuale. Diciamo che c'è una prospettiva quasi nuova anche da parte dell'ONU che molto spesso in realtà sulle questioni che riguardano l'etica e i problemi dell'uomo ha a volte subito troppo spesso il ricatto della politica internazionale, dei grandi potentati economici, vorrei ricordare Bhopal di cui ricorre in questi giorni uno degli anniversari più catastrofici di quello che è la capacità di esportare la civiltà dell'Occidente nei paesi del terzo mondo, perché qui parla di ambiente e si rivolge sempre alle aziende, perché qui parla di lotta alla corruzione e forse qui forse bisognerebbe anche stabilire il presupposto che potremmo anche assumerci noi la responsabilità di dire che in quanto comunque rappresentanti della politica dovremmo agire nei confronti dei nostri riferimenti più alti affinché ci sia un comportamento più consono all'etica, non alla morale, all'etica, all'etica pubblica della responsabilità. D'altra parte, vedete, questo è il frutto del lavoro di quelli che sono i giovani iscritti alle organizzazioni giovanili del PD e dunque è uno sforzo che mi pare sia indirizzato a rivendicare giustamente da parte loro nei confronti di noi che oramai siamo già più o meno da rottamare, l'impegno, ma naturalmente è solo discuto all'interno del PD attraverso... difatti su questa questione noto che non avete capito e quindi ve la sto spiegando io adesso, per questo avevate chiesto il chiarimento, insomma, io vi fornisco lo strumento del chiarimento, diciamo, e non fatemi dire diciamo perché divento troppo dalemiano e questo potrebbe essere pericoloso in questi temi. La questione è sostanzialmente un tentativo disperato, credo, anche di ribaltare un attimo l'ordine dei fattori tra chi ha una responsabilità reale e il potere reale, perché qui parla delle aziende. Ed è del tutto evidente, consigliere Andretta, probabilmente da un punto di vista lessicale si sarebbe potuto modulare in maniera diversa la premessa. Viva Dio! Non abbiamo paura di ricordare comunque che gli scandali in questo Paese hanno colpito anche la nostra, diciamo, regione, ma hanno colpito mica solo dal punto di vista della politica. Ricordo soltanto un dato. Qualche anno fa, qua a Novara, è stato arrestato un noto professionista, assolutamente insospettabile, e che però da quello che risulta era il riferimento e quello che raccoglieva e distribuiva informazioni, quantomeno a una rete estesa di criminalità organizzata dell'andrangheta. Non vorrei ricordare, e non è uno scandalo, ma però è una contraddizione nei termini, che nel momento in cui a Romentino veniva ucciso un noto imprenditore, un esponente politico amministratore dichiarava che sul suo territorio non c'era alcun problema di infiltrazione mafiosa. I titoli si danno, ma sono sempre temporanei. Allora, l'unica cosa che io posso stigmatizzare nei confronti dei miei amici, diciamo così, dei giovani democratici del consigliere LIA, è questa pervasiva idea che oramai il linguaggio universale sia l'inglese, gli consiglierei di studiare il cinese, perché credo che sarà più importante di qui a qualche anno. Naturalmente non applicandone i metodi cinesi, perché sono piuttosto drastici quando si tratta di tagliare i nodi gordiani, ma ciò che viene richiesto in realtà dovete guardarlo sulla base di un'attenzione che proviene dall'olio. Si guarda alla, diciamo così, parte più forte che in questo momento domina l'universo mondo, le multinazionali, tutto ciò che ha creato la globalizzazione per imporre dei criteri etici. Criteri etici. Tentare di introdurre elementi etici nella gestione di coloro che guidano la locomotiva della finanza che sta massacrando anche gli stati nazionali, ma soprattutto massacra coloro che hanno sempre meno diritti. Può essere un esercizio retorico questa mozione? Sì, però ogni tanto gli esercizi retorici servono a ricordare a noi qual è il nostro compito e servono a ricordare anche a coloro che guardano a noi che non siamo disattenti e non siamo distratti da altro, altrimenti non riusciremo a comprendere davvero quel che sta succedendo nel nostro paese da troppo tempo, comprese le ultime vicende di Roma, che per quanto mi riguardano sono drammatiche perché rappresentano un dato su cui io ho una preoccupazione. Anche nel mio partito c'è necessità di maggiore etica. Grazie. Grazie. Ora è scritto a parlare il consigliere Murante, poi si prepari Aralda e Reali. Grazie Presidente. Credo che la chiusura dell'intervento di Massimo Bosio, che adesso torna a sedersi nella seggiola che lo vede nel ruolo istituzionale del Presidente del Consiglio, sia una frase che certifichi l'essenza di questa mozione. È una mozione ovvia. Chiunque amministra vuole amministrare col massimo della trasparenza, chiunque amministra vuole amministrare evitando chiaramente di fare scandali, perché comunque non serve una mozione del consigliere Elia arrivata con la velina dei giovani democratici per fare vedere, per dire a noi, per dare a noi lezioni di onestà amministrativa. Non serve. È veramente retorica. E quando io dico che è condivisibile, perché ci mancherebbe altro che un amministratore non condivida una mozione di questo tipo, perché comunque le infiltrazioni mafiose e quant'altro, anche per le aziende, ci mancherebbe altro che ognuno di noi non le condanni e ognuno di noi non le abbia, e attenzione, condannate, non che non le condanni adesso, ma che non le abbia condannate anche quando amministrava precedentemente. Perché non è che devono arrivare i giovani del Partito Democratico, Elia in questo caso, a dirci che adesso bisogna fare così e che prima, dati gli scandali a livello locale, le corruzioni a livello locale, la poca trasparenza che c'è stata nelle amministrazioni pre-ballaree e che l'amministrazione ballaree ha dato una trasparenza maggiore, lì a queste robe qua non può dirle. Lì a queste robe qua non può dirle, perché di queste robe qua, quando uno accusa e dice queste robe qua, deve venire qua con la verità in mano e non dire che gli altri erano brutti e cattivi e questi sono bravi perché loro mettono questa roba qua, perché loro sono bravi a farci votare un'emozione del genere, perché grazie ai giovani democratici questa emozione qua è tutto. Ascolta, non devi venire qua a insegnare niente a nessuno, perché questa è una mozione che qualcuno ti ha passato dei giovani democratici e tu vieni qua a fare il galletto e non a caso è sceso in campo il Presidente del Consiglio a fare un intervento importante per darvi supporto, per darti supporto, perché difficilmente il Presidente del Consiglio scende dallo scranno e va sulle seggiole dei consiglieri comunali a fare interventi di questo genere. È venuto a supportarti. Io, caro Lia, sai cosa vorrei? Io ti dico questo, io vorrei che questa mozione qua, tu, tu la inviassi in quei comuni che sono stati chiusi per mafia nel 2010, nel 2011 e quant'altro e che oggi in quei comuni amministrano gli stessi amministratori che facevano parte di quei comuni che sono stati chiusi per mafia e che lo Stato italiano permette senza una legge che questi amministratori, colpevoli o non colpevoli che fossero, oggi, se prima erano sindaci oggi sono assessori, se prima erano assessori oggi sono sindaci, se prima erano consiglieri oggi sono assessori, se prima erano assessori oggi sono consiglieri di quei comuni che per colpa loro sono stati chiusi per mafia e oggi li amministrano. Questa mozione non devi portarla al comune di Novara. Questa mozione l'ha portata in quei comuni chiusi per mafia e non dovete venire a dare lezioni di esempio dicendo che noi o chi c'era prima amministrava male, ha fatto scandali ed era poco trasparente. No, l'hai scritto, leggi i punti. E quindi se è condivisibile la linea di principio, non è condivisibile quello che è stato scritto dicendo gli scandali che hanno colpito numerose istituzioni democratiche italiane anche a livello locale e quando scrivi che questa amministrazione ha profuso un impegno in questi anni per garantire una gestione più trasparente e aperta possibile, sottolineando che chi c'era prima la trasparenza non la dava. Ste robe qua non le devi scrivere. Grazie Presidente. Grazie a lei Consigliere. Grazie a lei Consigliere. Grazie Consigliere Morante. Consigliere Aralda. Parto con un ringraziamento ai giovani democratici che hanno dimostrato che il loro desiderio di fare della buona politica, di essere veramente nuovi, hanno dimostrato che ha dato, che comincia a dare dei frutti. Perché se non partiamo da principi, principi sanciti dalle Nazioni Unite e se non li trasferiamo nelle realtà locali, non possiamo partire da nulla. Siamo appunto in un mondo, come diceva prima il Consigliere Bosio, in cui la globalizzazione, le multinazionali, non sto a fare elenco, ma i diritti sono sempre più qualche cosa di soggettivo, di relativo, qualche cosa che nella nostra cultura invece italiana, nel welfare italiano, come diceva Zacchero, certo, certo che erano qualche cosa di stabilito, qualche cosa che sembrava inalienabile dagli anni del 78, quando c'è stato quella fertile periodo legislativo in cui è nato anche lo statuto dei lavoratori. Certo che noi siamo avanti, ma in questo periodo storico, e parlo degli ultimi 20 anni, tutto ciò che è stato enunciato è stato disatteso via via sempre più, tanto da portarci ad essere il paese più corrotto, tra i più corrotti Bulgaria e Grecia, siamo a quei livelli anche peggio, nell'Europa. Siamo il paese occidentale in cui abbiamo anche un'ottima sanità, ma una scarsa prevenzione sull'AIDS, che non c'entra niente, allora dice abbiamo un'ottima sanità, ma abbiamo… Allora bisogna ripartire da ricordare quelli che sono i principi e il fatto che questo parta da una città di provincia, parta da una città piccola, quando ci sono appunto città come Berlino, San Francisco, eccetera, e altre città italiane che probabilmente hanno vissuto nel loro tessuto proprio delle situazioni di corruzione come ACR, eccetera, oppure da una regione come la regione toscana invece. Ecco, è un fatto simbolico estremamente importante che valorizza la nostra città, la nostra amministrazione e valorizza anche i nostri giovani dai quali è partita la proposta. Per quanto riguarda il discorso dei diritti che sono ovvi, consigliere Murante, voglio finire brevemente citando una vecchia esperienza personale. Quando feci parte negli anni Ottanta dell'Associazione per la tutela dei diritti del malato, abbiamo degli incontri con il Presidente dell'ospedale, l'allora Dottor Ruggero Concone, caro amico attualmente, il quale ci disse, ma ci state presentando delle idee che sono poi quelle della rivoluzione francese. Cioè, diritti umani sono quelli. Bene, allora forse i diritti umani vanno sempre tutelati e perseguiti. Evidentemente i diritti umani a quell'epoca, i diritti dei pazienti, erano piuttosto disattesi nella sanità. Molto si è fatto da quell'epoca. Attualmente a Novara abbiamo un'associazione per la tutela dei diritti del malato che è operante, viva, vitale e che ha dato molto nel miglioramento dell'assistenza nel nostro ospedale. Questo esempio per dire che cosa? Che richiamare quelli che sono i diritti, cosa che evidentemente l'ONU se l'ha fatto è perché ritiene che siano disattesi, è perché ritiene che vada fatto, è perché i diritti, vediamo come anche i diritti delle donne ultimamente crescendo dei femminicidi uno al giorno, ma i diritti costantemente devono essere ricordati. La tensione etica costantemente deve esserci. Non servono le regole, Zacchiero, non bastano, non bastano le regole, non bastano, non bastano le regole, non servono, non sono sufficienti, voglio dire, non servono le regole se non c'è una precisa presa di coscienza collettiva o culturale, come si diceva. Quindi su questi temi non c'è il discorso, sono temi rettorici, no, sono temi reali e proprio il fatto di calarli in una realtà amministrativa locale porta nella tensione di trasformare qualcosa di enunciazione ideale nella tensione di realizzarlo costantemente, anche a fatica, anche con magari dei carichi economici che ci saranno, ma è qualcosa di doveroso, qualcosa che se in questo momento non facciamo risulterebbe squalificante, risulterebbe una risposta negativa a delle istanze di buona politica, di buona amministrazione che ci vengono dal mondo giovanile, saremmo veramente da giudicare assai negativamente se non lo facessimo. Grazie. Grazie consigliere Aralda. Consigliere Reali. Ritengo doveroso esprimere alcune considerazioni in merito alla proposta di questa mozione. Non credo, come ho sentito, che si tratti di aria fritta, non lo penso assolutamente. Così come non è vero che allarga le maglie dei controlli, non capisco da dove viene una deduzione simile, così come non intravedo che questa mozione sia un invito a non rispettare le regole, anzi la leggo come il contrario di tutto ciò. Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare, questa adesione che viene proposta con questa mozione non deve essere vista come una ovvietà, perché anche in un recente dibattito in Consiglio Comunale sull'adozione della Carta di Pisa era nato questo tipo di atteggiamento, ma è ovvio che dobbiamo rispettare le regole, è ovvio che dobbiamo comportarci in un certo modo. Io dico, colleghi, che non c'è da dare per scontato niente in questi atteggiamenti. La cultura della legalità di cui parlava Roberto Brivitello non è un vezzo culturale, non è un vezzo culturale la cultura della legalità, è un apprassi, è un modo di comportarsi e che non va dato per scontato assolutamente. I fatti di oggi ci dicono che perfino sui migranti c'è business corruzione, perfino sui campi Rom c'è business corruzione, siamo al massimo livello di degrado. Io credo che questa adesione che viene proposta oggi, credo che l'adesione del nostro Comune ad avviso pubblico, l'Associazione per la Formazione Civile contro le Mafie, di cui il nostro Comune fa parte, di cui ero proprio l'altro giorno a Roma in mezzo a questo turbidio, l'Assemblea Nazionale, l'adozione recente che abbiamo fatto in Consiglio Comunale della Carta di Pisa. Ricorderemo nel prossimo Consiglio Comunale, penso intorno al 15 dicembre, il fatto che il 10 prossimo, lo ricorderemo in Consiglio, il Presidente del Consiglio sicuramente lo ricorderà all'inizio, che il 10 prossimo è la ricorrenza della giornata mondiale dei diritti umani. Ecco, tutte queste cose sono atti importanti che devono richiamare la nostra coscienza civile. Vedi, collega Zacchero, tu hai cercato di mettere in contraddizione un atto come questo, con certe scelte che il Partito Democratico sta facendo. Per quanto mi riguarda, il mio dissenso con le scelte della direzione di quel partito è totale, è totale. Questo non mi impedisce di apprezzare che i giovani che hanno davanti una vita vengano ad affermare questi principi. Michele Lia, io ti invito a portare in Consiglio Comunale ancora istanze come queste, ne abbiamo bisogno. L'opposto, colleghi, della cattiva politica non è l'antipolitica, che può diffondersi in momenti come questi. L'opposto della cattiva politica è la buona politica e atti di questo genere vanno nella direzione della buona politica. Grazie. Grazie consigliere Reali. Consigliere Zacchero voleva aggiungere un pezzo al suo intervento. Sì, credo che al di là di ogni tipo di possibile polemica, di cercare di mettere in contraddizione qualcuno con qualcosa, non guarda consigliere Reali, io assolutamente penso che non ne abbiate bisogno, ve la cavate benissimo da soli, non c'è bisogno del mio umile aiuto per farvi del male da soli. Detto questo, per dare valore aggiunto alla discussione vorrei uno ribadire una cosa che mi sembra che non sia passata bene dal mio intervento precedente, cioè ribadisco con forza, le regole ci sono, sono scritte anche bene, si possono migliorare, vanno fatte rispettare, punto primo, perché se tu non fai rispettare le regole che già ci sono, non vedo come nuovi indirizzi che vanno nella stessa direzione in maniera un po' più lasca secondo me, possano essere acquisiti e fatti rispettare. Va bene la cultura, ma la cultura la possiamo già applicare da ieri, non c'è bisogno di questo per applicare e per andare verso la cultura della legalità, uno. Due, io non sono sicuro di essere d'accordo ad aderire alla United Nations Global Compact che è un qualche cosa all'interno del quale già esiste, c'è e aderisce in maniera fattiva, non come primo livello, ma in maniera fattiva Eni, ente nazionale idrocarburi. Quando noi qua in Italia, a Novara, in questo consiglio comunale, abbiamo ospitato Amnesty International che è venuta a raccontarci, prima in commissione e poi in un consiglio con fotografie e quant'altro, dei disastri ambientali e non solo che Eni sta facendo nel delta del Niger. Allora, cosa vuol dire che Eni perché ha aderito al Global Compact, adesso si smette di fare casi? No, sta continuando a farli e li faceva anche prima, perché non è da ieri mattina che Eni sta nel Global Compact, sono anni, anni, così come sono molti più anni che fa disastri nel delta del Niger, insieme, in buona compagnia, per carità non fa tutto da sola, è in buona compagnia di altre compagnie petrolifere. Detto questo, questa è la dimostrazione che non basta sottoscrivere un documento, ma bisogna poi applicarlo. E non soltanto, perché che cosa succede se poi questo documento viene disatteso? Cosa succede a coloro che l'hanno sottoscritto se poi disattendono questo documento? Assolutamente niente, niente. Eni è la dimostrazione vivente di quello che vi sto dicendo. Per questo io vi dico che non è necessario, se vi fa piacere possiamo anche farlo, va tutto bene, ma io non sono contento di stare dentro Global Compact se ci sta anche Eni, fin tanto che Eni continua a comportarsi come si sta comportando in certe parti del mondo. È inutile che facciate le facce e dico che fastidio che dà questo grillino. Sì, sono qua apposta per darvi fastidio, per rognare dentro la vostra coscienza, perché non bastano le foglie di fico, bisogna fare le cose concretamente, bisogna fare le cose concretamente e allora invito i giovani democratici ad andare sotto gli uffici di Eni a chiedere spiegazioni del perché, nonostante stiano dentro Global Compact e poi facciano quello che fanno in giro per l'Africa. Grazie. Grazie. Si è dimenticato di dire che come Consiglio Comunale abbiamo approvato un appello di amnesty con la questione di Eni e il delta del Niger, quindi l'ho ampliato l'intervento. Consigliere Diana e poi si prepara il Consigliere Arnoldi. Grazie Presidente, grazie anche per aver ricordato dell'approvazione della mozione e del bell'incontro che c'è stato con Amnesty qui da noi la volta scorsa. Un po' Savonarola somigli, in effetti, devo dire. Savonarola, cioè proprio sei qui a fare Savonarola. Benissimo. Allora, grazie, grazie per i tuoi richiami, per le tue direttive, per la tua moralità integerrima e fonte di insegnamento assoluto nei nostri confronti. Io, Presidente, desidero essere breve perché è giusto che sia così, ne abbiamo parlato approfonditamente di tutto. Trovo estremamente offensivo quello che prima è stato dichiarato dal collega Muranti, serve offendere per portare delle ragioni dalla propria parte, all'interno di un discorso davvero banale, lo dico proprio con tutta la sincerità, davvero banale. Banale dichiarare che dei giovani che si impegnano per cercare di riportare un po' noi tutti, insomma, a riflettere su questioni che sono di estrema importanza, di estrema importanza, definirle veline, veline perché sono donne, veline perché sono giovani, non lo so, banale, proprio banale, banale e offensivo, banale e offensivo. In realtà sono tutt'altra cosa, direi, tutt'altra cosa. Io penso che, entrando un po' nel serio, diciamo così, io penso che non si possa mettere in dubbio il fatto che le attuali regole, Zacchero, quelle che tu dici ci sono e devono essere applicate, purtroppo sembra non bastino, sembra non bastino, sembra che debbano in qualche modo essere integrate o addirittura modificate, ma non lo dice Biagiodiana, attenzione, non lo dice Biagiodiana, lo dicono persone davvero esperte che hanno fatto esperienze importanti, importantissime rispetto al sistema di corruzione, lo dicono quando pensano di riformare la legge anticorruzione, per esempio, è in discussione questa cosa qui, ma bisogna essere informati per poi saperlo. Altra questione, attenzione, perché fai Savonarola, però le cose poi non le approfondisci. Altra questione, quindi il richiamo proprio a quello che è, diciamo così, l'oggetto della questione, cioè l'adesione è un organismo internazionale, che anche se al suo interno poi contiene delle sigle, delle società, delle persone, degli stati addirittura, degli stati addirittura, che non osservano o che creano danni rispetto all'ambiente, rispetto ai diritti delle persone e quant'altro, beh, io credo serva proprio perché, proprio perché dobbiamo cominciare, dobbiamo cominciare, e anche Savonarola dovrebbe farlo, dobbiamo cominciare a ragionare un po' in termini un pochino più allargati rispetto al nostro paese, no? Cioè, noi oggi ci ritroviamo a discutere, a combattere con aziende che magari arrivano dall'altra parte del mondo, dall'altra parte del mondo, con regole, con comportamenti, con tutto quello che, hai parlato per mezz'ora e Savonarola lo faccio un po' anch'io adesso, no? Con tutto quello che sono le complicanze di carattere, diciamo così, della globalizzazione. Quindi va benissimo, va benissimo se un organismo, un organismo del genere esiste e noi, e noi andiamo a farne parte nel senso di aderire eticamente a ciò che deve essere ancora costruito, è chiaro, ma che sia costruito, che sia su una base, su una base che è quella reale, quella del mondo d'oggi, non quella del mondo immaginato, immaginato, è immaginato, è immaginato da te e dal tuo movimento. Voi lo immaginate, lo immaginate in maniera così restrittiva, così restrittiva e a mio parere banale, tanto da non riuscire neanche a fare democrazia al vostro interno, visto che fai riferimenti anche al mio partito, dove si discute, dove c'è dissenso rispetto a delle scelte e dove il dissenso e l'assenso è espresso in maniera democratica. Grazie Presidente, grazie, grazie Presidente. Grazie consiglieri, cerchiamo di non trovare la via alcolica all'etica, perché se si parla di assenzio... Consigliera Arnoldi, tocca a lei, sì certo, lasciamo con tranquillità alla consigliera Moscatelli, anzi aiutatela. Grazie Presidente, ma io mi stupisce un po' tanto accapigliamento su questa emozione, devo essere sincera, perché forse ogni tanto queste emozioni che sono un po' come dire alte, aiutano a sfogare tutta una serie di considerazioni che sentiamo noi tutti, perché è evidente che siamo persone che credono con passione evidentemente in quello che fanno e quindi questi alle volte sono strumenti che utilizziamo in questo senso. Io però non vorrei andare troppo lontano, perché siamo arrivati al delta del Niger per finire all'ONU e per parlare di altro. Io credo che intanto è apprezzabile sempre l'impegno civico, soprattutto quando arriva dai giovani. Perché dà fiducia, dà anche un senso al nostro essere qui oggi, perché vuol dire che se ci sono altri più giovani che hanno deciso di impegnarsi in iniziative di richiamo, in questo caso al Consiglio Comunale di Novara, alla pubblica amministrazione, no, figurati, c'è problema, alla pubblica amministrazione questo io lo ritengo sempre un bene, a prescindere. Proprio perché questo è un bene, il mio modestissimo parere è che questo bene non debba essere disperso o edulcorato o vanificato dalla genericità, perché se noi parliamo di giustizia in questo caso e di legalità e di cultura della legalità, dobbiamo farlo consapevoli che la cultura della legalità ha dei confini ben precisi e nel momento in cui noi allarghiamo troppo il tiro rispetto a quello che è il nostro, anche la nostra funzione, la nostra responsabilità, rischiamo di ottenere esattamente l'effetto opposto. Sono tutti colpevoli perché sono lì, sono tutti innocenti perché sono lì, scusate l'ho banalizzata ma mi sembra che il concetto sia abbastanza chiaro. Quindi ho condiviso le perplessità del Consigliere Andretta quando chiedeva al collega Lia, sì ma facci capire meglio perché di che cosa stiamo parlando? Al di là del generico richiamo alle imprese ad adottare atteggiamenti responsabili e a noi stessi ad adottare atteggiamenti responsabili. Io credo che fondamentalmente dentro questa mozione manchi un pezzo, un pezzo fondamentale perché è un principio al quale ci dobbiamo attenere perché altrimenti, ripeto, questa resta, come diceva il Presidente mi sembra di averlo colto, un buon esercizio di retorica ma un esercizio retorico. Che cosa manca nel richiamo alla cultura della legalità dentro questa mozione? Secondo me la condanna la cultura del sospetto, di cui questa amministrazione ha avuto purtroppo esempi, direi lampanti e recenti, perché mi dovete spiegare come si concilia la cultura della legalità con la cultura della delazione a tutti i livelli. Come si concilia per esempio, come si conciliano i regolamenti che richiamano i pubblici ufficiali, i pubblici dipendenti scusate, alle loro responsabilità con ad esempio situazioni di strani personaggi non meglio identificati che... non consentiti di avere la necessaria lucidità per intervenire. Colleghi, per cortesia, tra poco vi mando a casa. Prego. No, a casa a mangiare. No, a mangiare. Ah, vabbè. Ah, vabbè. Ma io... C'è una bella differenza tra la cultura della legalità e la cultura del sospetto. Guardate, non andiamo tanto lontano, qualche settimana fa, qualche mese fa, una nostra collega consigliera comunale è stata pesantemente colpita da un atto di delazione assolutamente irricevibile e incredibile. Penso abbiate letto tutti sui giornali la vicenda di questo cloto, che era questo delatore anonimo, in qualche maniera collegato alla pubblica amministrazione, che ha pesantemente accusato una nostra collega, qui presente peraltro, di fatti che poi non hanno avuto alcun riscontro. Allora, io mi chiedo, in quel caso il Consiglio Comunale non ha creduto opportuno, come dire, esprimere un atto di solidarietà nei confronti di questa situazione. Come... Brivitello, non ti piacerà quello che dico, ma lo dico lo stesso. Non importa. Credo che tu sia l'unico, perché comunque... Però il Consiglio Comunale in quel caso non si è espresso con un atto di solidarietà nei confronti della collega colpita in questo modo. Questo è solo un esempio. Un esempio per dire che, laddove esiste legalità, la legalità deve essere inserita dentro confini precisi quello che c'è e che non c'è. Perché altrimenti la confusione è globale e non si fa un esercizio giusto e buono né alla politica né alla legalità nel momento in cui si confondono nei piani. Quindi io credo che questa mozione vada assolutamente bene nella misura in cui si cita che la cultura della legalità è contrastante con la cultura della delazione che questo Consiglio Comunale rigetta con fermezza. E che tutti gli atti di questa amministrazione, d'ora in avanti se non lo sono stati in passato, io questo non so, saranno improntati a rigettare la cultura della delazione. Perché questo è un atto concreto, vero, serio, che questo Comune può fare e che deve fare quando, se vuole concretamente, occuparsi di questi temi. Grazie. Grazie consigliere Arnoli. Consigliere Perugine. Grazie Presidente. Grazie per avermi concesso ancora la parola perché in realtà, ma le ho chiesto autorizzazione prima, ero intervenuto a ruota del collega Lia dopo la sua presentazione perché non avevo capito praticamente nulla di ciò che stesse proponendo. Poi rinnovo il ringraziamento, a seguito del suo intervento, che ha alzato significativamente il livello degli interventi della maggioranza, di cui comunque al di là di ogni ragionevole dubbio lei fa parte, ho capito che questo è un esercizio di retorica. Perché queste sono parole sue e rispetto agli esercizi di retorica che poi lei ha collocato all'interno di, o meglio argomentato con un riferimento a dinamiche di partito, espressioni di voto anche in altre aule, si fa fatica ad esprimere un voto quando si tratta di un esercizio di retorica. Perché va bene portare all'attenzione un tema, va bene portare all'attenzione dei principi che come possono non essere condivisi. È stato fatto un riferimento dal collega Zacchero, poc'anzi, alle questioni Eni. Il collega Reali lo sa, ha il convegno che è stato richiamato anche questa mattina sulla vicenda di Carpignano-Sesia, il potenziale rischio di intaccare le falde acquifere che poi forniscono l'acqua pulita, sana, che esce dai rubinetti dei novaresi, io ero presente. E dalla platea, qualcuno si è alzato, ma non solo dalla platea, anche tra i relatori, qualcuno ha chiesto come mai la senatrice Ferrara, esponente della vostra maggioranza, avesse votato lo sblocca Italia che contiene l'autorizzazione alle trivellazioni, agli assaggi sul territorio di Carpignano e poi di fronte a una platea, direi anche qualificata dopo gli interventi che abbiamo sentito, di più o meno 250 persone, ha avuto il coraggio di dire, ma io non sono d'accordo e tengo a tutelare il mio territorio e il mio ambiente. Per chi c'era questa è stata l'affermazione. Qualcuno ha replicato, ma scusi, lei attraverso il suo voto ha detto come la pensa, come fa qui oggi a dire il contrario di come la pensa attraverso il suo voto? Perché lei incide con il voto, non con il dibattito. Tanto è vero che, ha proprio detto, ci sono delle questioni sovraordinate per cui i contenuti di quel atto legislativo sostanzialmente mi imponevano in via prevalente di esprimere il voto. Ho capito, se però quel voto porta delle negatività rispetto all'opinione che ha espresso, quindi io non entro nel merito. Ma non dico non si faccia vedere, dico se è incoerente tra ciò che voti e ciò che affermi. E allora, dopo aver capito, caro Presidente, quella che è la proposta del collega Lia e capisco anche il fermento dei giovani del suo partito, nel volere rivendicare dei principi e cercare di amplificare quelli che sono dei contenuti più che giusti, io però credo che questo non debba passare attraverso le Nazioni Unite, piuttosto che i grandi programmi, piuttosto che il dibattito qui dentro e poi il Sindaco, se approvata questa mozione, deve prendere carta e penna e scrivere, perché così dice il dispositivo, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, siglando l'adesione della città di Novara, ai dieci principi del Global Compact, ti prego lì ascoltami, e alla partecipazione dell'amministrazione e alle attività del programma. Ma a me verrebbe voglia di proporre un emendamento, visto che avete una componente cattolica e visto che, lo ha detto prima il Presidente Bosio, di fatto ci sono delle dinamiche interne che poi portano anche questi ragionamenti. Beh, mi andate, raggiungete una riga. Vorremmo, invitiamo tutti i cittadini novaresi cattolici, e se ne farà parte attiva il Sindaco, affinché scrivano al Papa per dire io rispetterò i dieci comandamenti. Questo è quello che voi chiedete. Come posso io esprimere il mio voto su un documento di questa natura? Avrei preferito essere invitato da consigliere comunale, magari in quest'Aula, non a partecipare a un dibattito consigliare, che poi andrà ad approvare o respingere un atto di fatto retorico, per cui spero di non sottrare troppo tempo a questo consiglio con il mio intervento, ma vengo tirato veramente per la giacca, dopo aver capito di cosa stiamo parlando, e rappresentando come tutti voi novaresi, per dire che qui di retorica non se ne deve più parlare, essere un po' più coerenti, e la differenza tra insegnare e tutto il resto è con l'esempio. Quindi se il mondo è diviso in guardia e ladri, è difficile che un ladro certifichi se stesso dicendo sono un ladro, e una guardia dopo che è diventata guardia, certifichi se stessa dicendo sono la guardia. Ecco perché va bene il dibattito, va bene il ragionamento, e come ho detto poco fa, avrei preferito magari anche in quest'Aula essere invitato a un convegno, un dibattito, magari dai giovani democratici, cercando di portare anche per la nostra parte un contributo, e allora cosa avremmo detto? Lo leggevo poco fa, ecco perché mi sono disperato quando mi ha chiamato il Presidente, tocca già a me, perché ho dovuto riprendere dei punti. Punto uno, le aziende sono invitate a promuovere la protezione del diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo, e ditelo ai cinesi, magari quelli di Prato, fate una bella task force, andate a Prato, capitanati dal sindaco che è esponente Anci, andate a parlare al sindaco e dici, caro mio, ma lo sai che qui molto probabilmente e per tavola si è dimostrato, cioè negli atti di alcune vicende legate a interventi di Polizia, Guardia di Finanza e via discorrendo, il diritto internazionale relativo ai diritti umani non è protetto da quelle aziende che hanno la partita IVA italiana, che sono registrate nelle Camere di Commercio italiane, allora forse avrei espresso il mio voto, perché dicevamo al nostro sindaco di rappresentare Novara un po' più degnamente di quanto non lo stia facendo, come se non l'avrei espresso, oppure per guardare al territorio, mi fermo al punto 2 Presidente poi andrò a chiudere, ad assicurarsi di non rendersi complici di alcuna violazione dei diritti umani, bene, il Presidente del Consiglio è del vostro partito, fate una bella letterona che magari sottoscriviamo anche noi gli dite, a proposito di cinesi, Birmania, Mianmare, via discorrendo, ma lo sai che le aziende agricole a riso stanno subendo dei colpi incredibili perché tu complice di un'Europa che ci vuole un popolo di 400 milioni di consumatori non metti i dazi su quel riso, favorendo quelle aziende, attenzione, di trasformatori che lì si approvvigionano, che immettono sul mercato e questi non sono per caso complici delle violazioni dei diritti umani, perché chi penserete mai che va a mondare quel riso? E come pensate che ci siano controlli adeguati per la nostra salute? Altro che mense scolastiche, e meno male che nel disciplinare, è uscito adesso forse l'assessore, c'era come approvvigionamento la riseria di Vespolata, cioè una cosa piccola, dimensionata e sotto controllo del territorio, e meno male. Quindi io non lo so, quello che dirà il nostro gruppo a me va assolutamente bene in termini di espressione di voto, ma è molto difficile esprimere un voto di retorica pura. Caro collega Lia, se tu e i giovani democratici organizzate un convegno sul tema o su temi simili ed assimilabili, non ti preoccupare, parteciperò volentieri, dove che mi inviti e dove sarò seduto, proverò a dare il mio contributo e aderirò. Qui faccio una grande fatica a sprecare un voto dei novaresi per qualcosa che è assolutamente retorico, salvo che la vostra componente cattolica, e allora mi associo da cattolico, aggiunga, tutti i novaresi devono scrivere al Papa che si impegnano a rispettare i dieci comandamenti. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Perugini. Naturalmente lei si riferiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché lei ha parlato di Riso, di Presidente del Consiglio. Siccome mi spetta una delega all'agricoltura da un'altra parte, ero già preoccupato che ce l'avesse con me, invece ho capito dopo che ce l'aveva con qualcuno di più importante. Io non ho iscritti a parlare, non ho iscritti a parlare, quindi siccome mi pare che non ci sia volontà di continuare, io chiudo la discussione sulla mozione, chiedo se ci sono delle dichiarazioni di voto però. Consigliere Pedrazzoli. Grazie Presidente. Forza Italia ha ascoltato volentieri questo dibattito interno al PD su un tema estremamente importante ma assolutamente distante dalle esigenze del Consiglio Comunale, non ritiene di dover intervenire nella presente votazione e pertanto il gruppo di Forza Italia si astiene dalla votazione stessa. Grazie Presidente. Grazie. Consigliere Lia. 36. Grazie. Chiaramente io esprimo il parere favolevole del gruppo, il voto favorevole del gruppo del PD e del gruppo di SEL, vorrei ritornare su alcune critiche che sono state fatte e tra parentesi ringrazio tutti i gruppi consigliari per essere intervenuti nella discussione perché comunque hanno aperto dei fronti interessanti sulla quale si potrà approfondire e se sicuramente organizzeremo come probabilmente faremo un'iniziativa in tal senso sarete invitati sicuramente, saranno invitate tutte le forze politiche, a iniziare da quelli che le hanno chiesto anche in questa sala. Ma per quanto riguarda la questione posta nell'ENI, io sono andato a vedere, diciamo l'ENI è una delle sei compagnie che ha aderito a questo programma. All'interno di questo programma, proprio per adempiere e quindi a dimostrazione del fatto, e qui rispondo anche già indirettamente a qualcun altro, del fatto che non è aria fritta quella di cui si sta discutendo, a dimostrazione di ciò l'ENI si impegna a sottoscrivere per esempio la dichiarazione universale delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo, la dichiarazione dell'organizzazione internazionale al lavoro dei principi e dei diritti fondamentali del lavoro, eccetera, eccetera, sulla questione dell'ambiente sulla questione della corruzione. È chiaro che nel momento in cui si vengono a creare delle, si vengono a scoprire che ciò che così non è, si deve intervenire e questo è fuori di dubbio, ma ciò non pregiudica il fatto che comunque aderendovi o non aderendovi, come posso dire, non si dia un segnale, mi spiego meglio, il fatto che anche ENI abbia partecipato e poi in maniera assolutamente, cioè riportato sui giornali, abbia poi disatteso parte delle cose che ha sottoscritto, non è un punto a svantaggio di questa cosa qua, è un punto a favore, semmai. Noi dovremmo essere in grado di dire allora c'è qualcosa che non ha funzionato a livello di controllo, ma non del Global Compact, ma direttamente a livello del controllo per esempio della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. E allora, visto che ci sono paesi nel mondo che hanno anche sottoscritto la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che non rispettano i diritti dell'uomo, allora non dobbiamo più aderirvi? Ma che ragionamento è? Io personalmente non mi sento in dovere di fare questo tipo di ragionamento perché comunque, comunque, meno male che ci sono questo tipo di iniziative. Poi è chiaro che se qualcuno sbaglia bisogna avere anche i meccanismi per pagare, però ha ragione qui il Presidente, in questo caso del Consiglio Comunale Massimo, se non partiamo noi, che siamo gli organi istituzionali a dare un segnale da questo punto di vista, è chiaro che anche le aziende che faranno la bella faccia e poi faranno quello che vogliono, ma dobbiamo essere noi, perché probabilmente quello che sta accadendo nel Niger è frutto anche di una totale assenza di politica e forse a livello di corruzione era ancora più bassa di noi da questo punto di vista, la Nigeria. Ora, e quindi non capisco il motivo per cui allora se c'è l'ENI non possiamo parteciparvi anche noi, allora non partecipiamo a nulla, perché se c'è un partner che non ci piace, anche se condividiamo completamente i principi, non vi partecipiamo. Sulla questione di fare il galletto non mi esprimo, anche perché questa è una mozione che verrà presentata da tutti i consiglieri comunali che fanno anche parte dei giovani democratici in tutti i comuni, laddove sarà possibile e quindi anche in quei comuni dove, giustamente ricordavo il consigliere Murante, vi sono casi ancora più eclatanti se vogliamo, ma non è una classifica a ribasso, ancora più eclatanti rispetto al nostro, al nostro scusate, a quello che voi pensate essere il nostro. Io però dico anche questo, chi vede mala fede probabilmente è in mala fede e scusatemi se lo dico e non voglio che qualcuno la prenda sul personale, perché se mi si viene a dire che solo per il motivo per cui... Sì, giusto, Presidente. Abbiamo... No, però sono state volte delle accuse che mi sembrano sinceramente un po' campate in aria, perché se scrivo a livello locale non sto per forza indicando un tema, è una questione avvenuta nel comune di Novara all'interno di quest'aula. Sì, ho capito, ma infatti io non sto... Sì, sì, va bene, ma io sto proponendo semplicemente l'approvazione ad un programma. Comunque, chiudo dicendo che per esempio... Chiudo dicendo sulla questione del riso il PD è intervenuto e il Ministro Martina è venuto anche a Novara direttamente per discutere in questo tema e non è vero che il Presidente del Consiglio e la Presidenza del Consiglio non se ne sta occupando. E per quanto riguarda il Pozzo di Carpignano, io sono completamente contrario a quell'iniziativa ed è chiaro e l'ho votato anche qui in questo Consiglio Comunale, ma i primi che hanno iniziato ad avviare questo tipo di indagine è stata l'amministrazione regionale precedente, che non mi sembra fosse di centrosinistra, quindi, ma al Comune forse. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Lia. Ci sono altri interventi, Consigliere Zacchiera e poi Consigliere Canelli. Mi sembrava di essermi svegliato, in realtà sono in fase REM adesso. Allora, io vorrei per una volta, visto che sono nelle condizioni di poterlo fare pubblicamente, esprimere una mia posizione in merito all'adesione a dei principi o comunque a dei trattati o quello che sono. Se esiste la dichiarazione di una serie di principi ed esiste la volontà che enti nazionali, entità nazionali che siano enti pubblici o privati aderiscano a questi principi, è necessario e indispensabile che vi sia un controllo da parte dell'ente proponente di principi, che questi principi vengano rispettati. Perché se no diventa un altro di quelle strutture autoreferenziali guidate da chi ha più soldi, che hanno a loro volta necessità di avere grandi marchi, grandi nomi al loro interno per avere autorevolezza e che quindi non sono poi in grado di verificare, controllare e prendere provvedimenti nei confronti di quelle grandi entità che vanno contro, nella pratica vanno contro i principi che hanno sottoscritto. Quindi, questa è la proposta che vi faccio, ritirate questa mozione, è tardi? Pazienza, allora dovrò esprimermi diversamente. Votate, io voterò e vi invito a votare contro questa mozione perché secondo me non può passare il principio per cui se una persona sta dentro un'organizzazione o un'entità sta dentro un'organizzazione con dei principi e non li rispetta può passarla tranquillamente illesa. Non è così. L'unico modo che noi abbiamo, se crediamo veramente nel Global Compact e se presentiamo una mozione perché ci crediamo, l'unico modo che noi abbiamo per fare forza sul Global Compact affinché diventi un qualche cosa di veramente riconosciuto a livello nazionale è dargli autorevolezza. In questo momento non ce l'ha perché contiene al suo interno entità che non rispettano le regole che hanno sottoscritto. Quindi il modo migliore per dare autorevolezza e stimolare il Global Compact, le Nazioni Unite e dare loro autorevolezza e votare contro, cioè rifiutare di aderire, rifiutare di aderire, poi mi rendo conto che il Comune di Novara conta come il 2 di Piccabriscola, anzi forse neanche, molto di meno, però è un segnale di non aderire perché ci sono all'interno entità che non rispettano e nessuno che le controlla e le riprende. Dopodiché il sindaco visto che era già lì con la penna in mano per scrivere e aderire, anziché scrivergli per aderire, gli scrive per spiegargli al segretario delle Nazioni Unite perché non aderiamo. Gli scrive per spiegargli perché non aderiamo, indicandogli il fatto che saremo ben lieti invece di aderire nel momento in cui il Global Compact tornerà ad avere quella credibilità che secondo me merita, ma in questo momento non ce l'ha, perché non è in grado di far rispettare le regole che si è dato e ai quali i componenti hanno aderito. Punto. Grazie. Molto chiaro. Consigliere Canelli, mi prima chiesto di intervenire il Consigliere Rossetti per dichiarazione di voto. Grazie. Grazie Presidente. Mi ha acceso? Sì. Grazie Presidente. Beh, guardi Presidente, è evidente che all'interno di questa mozione sono elencati una serie di principi ai quali non si può, diciamo così, essere contrari, ci mancherebbe altro. L'ha già spiegato molto bene Perugini però, qual è il problema di questa mozione. Noi ci asterremo, Presidente, per due motivi fondamentali. Il primo è perché riteniamo, come ha già spiegato Perugini, questa mozione assolutamente piena di retorica nel momento in cui si porta in questo Consiglio Comunale. Inutile quindi, pleonastica. Una mozione che non cambia assolutamente nulla, che non dà assolutamente nulla in più a quello che dovrebbe fare questo Consiglio Comunale, questa amministrazione comunale. Una mozione che forse vuole sottolineare alcuni principi che sono scontati. Il secondo motivo è quella che è anche un attimino suggestiva questa mozione. Questa mozione ha anche un certo carattere di subdolità, è subdola. Perché vi spiego? Ci sono inserite all'interno della premessa e in una presa d'atto due frasine che non ci piacciono per niente. La prima è quella dove si dice che gli scandali che hanno colpito numerose istituzioni democratiche italiane anche a livello locale. Siamo in Consiglio Comunale, io penso che si possa fare riferimento a qualcosa che è avvenuto qua. La seconda è che non ha preso atto, si dice, dell'impegno che questa amministrazione ha profuso in questi anni per garantire una gestione più trasparente e aperta possibile. Ora, se le prendiamo queste due frasettine e le analizziamo bene all'interno dell'impianto generale della mozione, suggeriscono il solito problema che quello che c'è una parte politica che sta facendo le cose per bene, che ha una cosiddetta superiorità morale, che si arroga il diritto di avere una certa superiorità morale, perché parlate di questa amministrazione, è una parte politica che invece così non fa. Quando sappiamo tutti, e l'esempio l'abbiamo avuto ieri sui tutti giornali, che problemi di questo genere ci sono trasversalmente, quindi non c'è una parte politica migliore e una parte politica peggiore. Ci sono persone migliori e persone peggiori. Ci sono persone oneste che svolgono la loro funzione pubblica con onestà e ci sono persone disoneste così come in ogni contesto umano. La subdolità di questa mozione sta in questo ed è per questo che è ricevibile da parte nostra. Perché voi dite dell'impegno che questa amministrazione ha profuso in questi anni per garantire una gestione più trasparente e aperta possibile? Io vorrei capire qual è, in che cosa si è concretizzato. Non l'abbiamo sentito tranne una mezza frase di Lia che io sinceramente non ho neanche capito bene. Io faccio riferimento ad esempio al 30 ottobre del 2008, quando l'amministrazione precedente, quindi non questa, ha sottoscritto un protocollo di intesa per il monitoraggio degli apparti pubblici presso la prefettura di Novara, insieme alla provincia, insieme all'ASL, quello era un fatto concreto, l'ha fatto la precedente amministrazione. Perché questa qui sarebbe più aperta e trasparente rispetto a quella precedente evidentemente? Perché? No, c'è scritto questo, c'è scritto questo. Voi volete far intendere che siete arrivati voi e c'è l'onestà, quando prima non c'era. Questo volete far intendere. Questo è vero, se si riferisce al negozio un tempo c'era l'onestà. Questo volete far intendere. Quindi è irricevibile questa mozione, anche se all'interno della stessa sono contenuti principi sacrosanti. Principi sacrosanti. Ma che comunque sia, qualsiasi amministratore pubblico che voglia svolgere la sua azione pubblica e amministrativa in qualsiasi contesto amministrativo, sa benissimo già come devono essere. In più ci sono degli inviti alle aziende e quant'altro a fare determinate cose. Però io sono veramente, diciamo così, negativo nei confronti di questa presa d'atto sulla lotta alla corruzione, perché è sudola e fa intendere che adesso voi portate qua un documento che dovrebbe risolvere determinate questioni etiche che prima non venivano eventualmente affrontate. E questo è inaccettabile. E per tale ragione noi non voteremo favorevolmente, purtroppo, a questa mozione. E quindi il nostro voto sarà in questo senso. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Canelli. Consigliere Rossetti. La ringrazio, Presidente. Diversamente dal mio gruppo, io mi esterlo. Grazie, Consigliere Rossetti. Consigliere Andretta. Grazie, Presidente. Faccio anch'io un brevissimo ringraziamento comunque sia all'attività giovanile che ha portato a questo, comunque allo stimolo del Consiglio Comunale, perché è un'iniziativa assolutamente lodevole e spero che sia anche comunque un fatto utile al Consiglio Comunale, nonostante qualche perplessità, perché almeno da parte mia io intendo quella dell'amministrazione locale in quanto amministratore del proprio territorio e quindi credo che quando si inizia un ragionamento di questo tipo su un documento assolutamente condivisibile, come mi suggeriva prima la consigliera Moscatelli, chi non potrebbe sottoscrivere queste dieci linee guida di questa nobilissima organizzazione sovranazionale. L'occasione perduta che c'è da questo dibattito che però io vedo è che nonostante lo stimolo che è arrivato dall'intervento della Consigliera Arnoldi, questo Consiglio Comunale abbia proseguito nel voler continuare a parlare del Niger piuttosto che della Segreteria Nazionale delle Nazioni Unite e non magari di quello che è accaduto, che può capitare a livello locale. Addirittura il capogruppo del PD dice io non seguo le cronache locali, fa riferimento alle cronache locali, lo mette all'interno del corpo e non conosce l'esistenza di Clote. Questo è un fatto, noi voglio dire, immaginiamo che sia, perché qui voglio fargli un in bocca al lupo, perché se ha detto di saperlo perché ne era conoscenza allora ha retto bene, ma io voglio credere che sia sincero e quindi semplicemente non ne era conoscenza e quindi credo che dovrà inseguire un pochettino per ricoprire con maggiore autorevolezza e ruolo che comunque in maniera autorevole svolge. Io penso che noi tutti i consiglieri di minoranza abbiamo già avuto modo di mostrare personalmente e in colloqui privati la vicinanza alla consigliera Moscatelli, perché è molto vero quando si dice il principio della legalità è sacrosanto, anche il contrasto alla delazione è sacrosanta, deve essere sacrosanta, perché poi diventa un principio talmente banale, talmente semplice che è etico. Chiedo scusa al consigliere Canelli se sto intervenendo mentre lui discute, perché non volevo interromperlo consigliere Canelli. Mi trovo un pochettino a ragionare in questo senso, la cultura del sospetto fa parte della legalità, nel senso che la cultura del sospetto quando si parla di legalità deve essere censurata, secondo me i consiglieri di maggioranza hanno perso un'occasione oggi, una grossa occasione, perché vedete, io devo anche capire come giustamente diceva Canelli ci sono il noi e ci sono il voi, ma poi anche all'interno del voi c'è chi stimola determinati ragionamenti sull'attività svolta dalle amministrazioni precedenti, dicendo magari anche ventilando, pavoneggiando su quegli atti che sono stati compiuti in perfetta buona fede da parte degli amministratori, ma che comunque fanno parte di un certo tipo di cultura del sospetto. Allora oggi si è visto anche da questo punto di vista della maggioranza che c'è chi preferisce non sapere o non vedere e chi invece magari è consapevole in cuor suo, io voglio pensare a quest'altro tipo, perché a quest'altro tipo di comportamento e quindi che non ci sia doppiezza di comportamento, perché vedete, andando a parlare male, lo dico proprio, non parliamo di delazione, ma comunque a parlare male o parlare in termini di sospetto sull'operato dei precedenti amministratori, dal punto di vista della legalità, dal punto di vista dell'etica, porta questa maggioranza in maniera soprattutto etica ad avere un'utilità, un beneficio politico che secondo me non è molto corretto. Nel senso che mostrare dei fantasmi oppure demonizzare opere pubbliche che si sono volute portare è un modo da parte vostra di poter dire noi siamo meglio degli altri, aveva molto ragione, aveva molto ragione il consigliere Canelli nel suo intervento. E allora vedete, poi si arriva anche al ragionamento dei principi etici che voi ben conoscete, perché molto spesso vi sentiamo parlare di etica. L'etica arriva anche dal fatto che nel momento in cui io approvo un codice di comportamento poi devo portarlo avanti anche concretamente. Quindi quando sento delle persone che magari si può portare anche sui social network, perché oggi si preferisce anche, si pensa che i social network poi alla fine non li legge nessuno, certi commenti di certi collaboratori, di certi rappresentanti politici che fanno degli interventi dove sostanzialmente addirittura auspicano oppure prevedono chissà quali tragende e tempeste, però poi dal punto di vista etica si fa l'immacolato. Vado a concludere Presidente perché noi abbiamo, vedete, abbiamo approvato un regolamento anticorruzione, è vero, è assolutamente vero e ogni volta noi parliamo di trasparenza, anche questo è assolutamente vero. Però questo regolamento anticorruzione ad esempio ha portato anche a dei concreti, chiedo ancora scusa al consigliere Canelli se lo interrompo perché io capisco che... Vedete, noi abbiamo anche approvato un regolamento anticorruzione che ha portato anche delle direttive interne, che io reputo molto importanti e che arrivo a condividere ovviamente. Però noi in Commissione non ne abbiamo neanche mai parlato, in questo senso mi rivolgo anche a lei Presidente, cioè noi abbiamo delle diligence interne da parte del Comune dove si prevede che determinate segnalazioni sull'anticorruzione e sull'illegalità debbano essere rappresentate su due esclusive mail che questo materiale debba essere secretato e poi conservato in cassaforte. Io non so quanti di voi ne erano a conoscenza, io così l'ho scoperto quasi casualmente l'altro giorno quando pasticciavo sul... Ma sono questioni molto molto importanti perché, ad esempio, voi magari non lo immaginavate neanche, però questa amministrazione aveva preso degli atti comportamentali molto più importanti e molto più influenti proprio a contrasto della futura delazione e neanche lo sapevate. Preferite non sapere o dire che non sapete che cosa è accaduto in questa città. E allora io dico perché non ne parliamo insieme? Perché non facciamo una commissione? Perché non vediamo il dirigente responsabile, non vediamo di conoscere quali motivazioni ha portato il dirigente responsabile. Perché se oggi presentare una segnalazione deve essere fatta in maniera assolutamente risoluta e, diciamo così, nella massima riservatezza e che poi questa riservatezza debba essere mantenuta, ebbene, io Presidente credo che sia interesse di tutto il Consiglio Comunale che ha votato in quella direzione sapere quali sono i flussi di lavoro che il dirigente adotta. Per esempio, proprio perché ogni tanto mi piace pensare che la politica, ed è questo l'augurio che volevo dare ai giovani, la politica debba essere comunque al di sopra di tutto, anche al di sopra dei cattivi comportamenti, dei comportamenti eticamente non corretti, ma anche delle procedure interne, perdonatemi, della burocrazia che spesso e volentieri ci lascia un pochettino alla mercè e ci lascia in posizioni di difetto che poi diventa ben difficile, ben difficile recuperare, soprattutto per chi politicamente e gli amministratori così giovani possono avere il modo di ricoprire successivamente quando toccherà loro. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Andretta. Grazie Presidente. Grazie. Chiedo a chi è contrario. Uno. Chi si astiene? Grazie. Allora, undici voti a favore, un contrario e nove astenuti. La votazione è approvata, vorrei però prima di chiedervi la cortesia di consentirmi di chiudere i lavori, di fare semplicemente una riflessione su un passaggio che è stato fatto dalla consigliera Arnoldi e che reputo che debba eventualmente diventare un patrimonio comune anche in merito della discussione che è stata fatta. Non esiste legalità che è accompagnata a una cultura del sospetto. pregherei da questo punto di vista i promonenti la mozione di verificare del caso se questo passaggio non possa essere preso in esame su quella mozione, ma comunque che sia la filosofia della vita di voi giovani, grazie. Detto questo, la mia proposta è di dire closing time, visto che siamo oramai in America, dicendo che i lavori sono conclusi e l'accordo è quello che queste due interrogazioni sono le prime delle prime che verranno fatte nel prossimo Consiglio Comunale. io vi ringrazio per la cortesia e vi auguro una buona giornata. Va bene.